Buon pomeriggio a tutti. Queste occasioni online ovviamente ci consentono paradossalmente di essere meno istituzionali. Credo che si senta bene, vedo che i dottorandi mano a mano si stanno collegando. Come sapete siamo alla nuova edizione di Storia in Corso, un'edizione in realtà che ha accompagnato mano a mano la chiesa del nostro paese. Visto che il comitato scientifico era partito a gennaio, a marzo discutevamo le relazioni convinti di dover rinviare di qualche mese per farlo in presenza, prima a maggio, poi a giugno, poi a luglio e poi in autunno, in realtà tutto questo non è stato possibile, come è evidente, concordandolo ovviamente con la nostra presidente che saluto, Gia Cajoti, alla fine anche questo incontro si è trasformato in un seminario online, che ovviamente per evitare i convegni e iniziative che abbiamo visto stancanti quando interminabili è stato diviso in tre pomeriggi e quindi si terrà oggi il 18 e la settimana successiva facendo in modo che tutti i dottorandi abbiano uno spazio adeguato sia per presentare che per discutere la tesi con i loro commentatori e chi vorrà intervenire. Quindi ovviamente il mio saluto, che era quello dell'Università di Salerno, si riduce a questo passaggio e ovviamente ha un triplice ringraziamento. Il primo alla Cisco che ha mantenuto in piedi, non era scontato con tutte queste difficoltà, tutte le iniziative e anche alcune di queste che come storia in corso hanno assunto un ruolo istituzionale. Quindi innanzitutto alla Cisco che ovviamente sarebbe stata ospitata a Salerno, speriamo in un'altra occasione o in un altro contesto. In secondo luogo al Comitato Scientifico, vedo che ci sono quasi tutti, forse qualcuno ancora deve arrivare, quindi per nominare li aspettiamo, ma il Comitato Scientifico è stato operativissimo, ci siamo mano a mano adeguate alle novità dell'emergenza, quando ci vedevamo a marzo pensavamo che Zoom fosse una cosa inconcepibile, anzi, ricordo che Skype per noi era l'orizzonte ideologico e politico, adesso invece utilizziamo praticamente tutto. Il Comitato Scientifico è stato gentile, disponibile, efficacissimo, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema e tutto è stato organizzato con rapidità. E il terzo ringraziamento, quello più forte, va ai dottorandi che con pazienza hanno registrato i nostri cambiamenti di programma, i nostri spostamenti, la modifica poi dell'impostazione originaria che era data a questo incontro, e ovviamente li ringraziamo per la pazienza e per la disponibilità che hanno avuto. Tra l'altro ci sono anche dottorandi del nostro programma che partecipano, altri studenti, ovviamente sono contento e li saluto tutti. E a questo punto darei immediatamente la parola alla nostra Presidentessa. Grazie Carmine, allora tanto di nuovo buon pomeriggio a tutti e soprattutto molti auguri per questo 2021, che speriamo sia diverso dalla 2020, speriamo che sia migliore, speriamo che il vaccino fa ben sperare il fatto che per la prima volta l'Italia è in testa per numero di vaccinazioni e addirittura lo è la Campania in Italia, che è un'altra delle cose che viste da qui stupisce e meraviglia, ovviamente positivamente. Significa che si può vaccinare rapidamente, d'altra parte noi storici lo sappiamo che sono state fatte campagne vaccinali importanti nel secondo dopoguerra, pensate a quella contro la poliomelina, alle campagne contro il variolo, che hanno coinvolto una parte considerevolissima della popolazione, se si poteva fare negli anni 50-60 evidentemente si può fare ancora di più nel ventunesimo secolo. Insomma il vaccino ci fa ben sperare, ci fa ben sperare soprattutto di tornare a vederci, di tornare a incontrarci. Come ha detto Carmine, a quest'occasione l'abbiamo un po' rinviata perché eravamo ottimisti, nel senso che l'abbiamo rinviata per più di una volta con l'idea che forse si sarebbe tornata in presenza perché appunto abbiamo ottimisticamente pensato che dopo l'estate si potesse ritornare ad una vita normale, poi abbiamo pensato che l'autunno inoltrato lo si potesse ancora fare e poi abbiamo deciso evidentemente che era un'occasione troppo importante per lasciarla cadere e siccome ormai ci siamo anche tutti quanti abituati a questa nuova dimensione, siamo qui e io sono molto contenta oggi di essere qui con tutti voi e di ascoltare diciamo le nuove ricerche. Ovviamente perdiamo delle cose, perdiamo quello che da 15 anni è storia in corso, cioè l'opportunità di incontrarsi, di conoscersi, di conoscersi sia tra colleghi diciamo in maniera orizzontale, tra colleghi di dottorato, tra persone che fanno un dottorato in posti diversi dell'Italia e quindi confrontare anche le loro esperienze dottorali e verticalmente diciamo l'idea di storia in corso quando nacque era ed è continuato ad essere quella anche di un confronto tra generazioni, appunto questa formula che prevede la presentazione di ricerche da parte di dottorandi e la presenza appunto di scassanti che normalmente diciamo appartengono alla generazione di coloro che le ricerche le seguono è appunto pensata come un confronto generazionale. Speriamo ci siano evidentemente, e la Cisco sicuramente attraverso le sue future iniziative, speriamo per esempio di poter tenere cantieri a Cagliari, a Settembre, sarà, costituirà diciamo evidentemente il luogo e l'occasione per conoscersi e per fare quello che oggi e nei prossimi due incontri non saremo in grado di fare, cioè parlarsi al di fuori anche del tempo, del convegno, a pranzo, a cena, nei corridori, sono tutte quelle occasioni spesso assai proficue diciamo di incontro. Ci ho detto, siccome la formula online prevede tempi anche molto contingenti, infatti io mi fermo qui limitandomi però a dei ringraziamenti che veramente non sono formali. Un ringraziamento innanzitutto a Mariangela Palmieri, Mariangela Landi e Silvia Sonetti per l'organizzazione, per l'impeccabile organizzazione. Ovviamente un ringraziamento enorme a Carmine Pinto e al Comitato Scientifico, a Arianna Risirota, a Claudia Bernardi, a Valerio De Cesaris, a Pinella Di Gregorio, a Umberto Gentiloni Silveri, a Simon Levi-Sullam e a Elaria Pavan. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sono appunto i membri del Comitato Scientifico che ha selezionato, che ha letto le proposte, le tante proposte arrivate, che ha selezionato i partecipanti a questo convegno e che ha poi fatto anche la scelta evidentemente dei discussi, insomma che ha messo in piedi diciamo l'intelaiatura scientifica di questo convegno. Grazie veramente a tutti e buon lavoro. Spengo il mio microfono e cedo la parola, credo, a Elaria Pavan che appunto regolerà il traffico di questo primo incontro. Grazie. Grazie per queste introduzioni. Ringrazio naturalmente i nostri dottorandi di questo primo incontro. Come sapete dal programma è il primo lunedì di una serie di tre che si succederanno per il mese di gennaio, ognuno dei quali vedrà tre lavori discursi da tre discussant e ci spera anche con la partecipazione e la discussione appunto da parte del pubblico che vedo abbastanza numeroso e sono molto contenta di questo per cui già avverto che sarà possibile, oltre che largamente ci auguriamo che venga, che chiunque di voi possa chiedere la parola per fare domande alla fine delle due presentazioni ufficiali, cioè quella del redatore e quella del discussant. Basta che vi prenotiate nella chat e alla fine di ogni singolo intervento direi che sarebbe il caso di discutere appunto del lavoro del dottorando in modo da non perdere un po' il filo del discorso. Quindi mettete pure le vostre domande già o la vostra richiesta di intervento, poi alla fine controllerò io stessa e apriremo insomma questa nostra piccola discussione virtuale. Oggi avremo con noi Dario Salvatore, Giorgio Ennas e Francesco Cutolo, introdurrò poi ciascuno molto succintamente, e i nostri discussant sono il professor Luigi Musella, la professoressa Eliana Augusti e il professor Simon Levi-Sullam, che sostituisce rispetto a quanto previsto dal programma che era circolato, il professor Mondini che ha avuto un inciampo e quindi non è potuto purtroppo essere con noi. Quindi ringraziamo anche Simon Levi-Sullam che ha accettato in corsa di sostituirlo. Io inizierei immediatamente dando la parola al primo dei nostri dottorandi, dei primi dei nostri interventi, ovvero Dario Salvatore, che si mando, credo, il suo percorso dottorale svolto all'Università di Salerno. L'intervento che ci presenta oggi si intitola Mobilitazione politica economica urbana e progetto imperiale fascista, il caso napoletano. A lui la parola per, come abbiamo deciso insieme, una ventina di minuti. Succederà poi appunto l'intervento del relativo discussant, professor Musella, e poi appunto apriremo una più ampia discussione fra tutti i partecipanti a questa nostra riunione online. Quindi, dottor Salvatore, se la vedo la... Sì, 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 buongiorno. Buongiorno, perfetto. Allora, le do immediatamente la parola per la sua presentazione del suo lavoro. Grazie mille. Va bene. Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Ringrazio prima di tutto il Comitato Scientifico per aver, ecco, selezionato la mia ricerca e inserita all'interno di questi giornate di storia in corso. Diciamo, nel tempo che mi è dato, cercherò di essere il più preciso e conciso possibile, illustrando prima di tutto quale sia il panorama storiografico da cui è emersa questa, diciamo, è iniziato questo progetto, gli obiettivi e quindi in fondo la domanda storiografica che muove il progetto, le metodologie che hanno composto la base da cui poi sono partito e, in ultimo, alcune ipotesi interpretative che ho definito in corso d'opera e che, diciamo, stanno puntellando questo progetto che è ancora in fieri. Per parlare, diciamo, del panorama storiografico, a me piace ricollegarmi a un testo che per me è stato davvero importante nel prendere d'atto, prendere consapevolezza di un problema storiografico e questo testo è il testo di Pasquale Villani, Gerarchi e fascismo a Napoli, pubblicato nel 2013. Quello che mi colpì in modo particolare di questo testo fu soprattutto l'introduzione in cui, possiamo dire, emerge anche, potremmo dire, tutta la dimensione umana di Villani perché questa è la sua ultima pubblicazione, non poteva già, diciamo, più muoversi di casa, infatti lui stesso dice che è stato aiutato da amici storici per recuperare le fonti, però lui ci teneva a portare a realizzare, ecco, questo testo e ne spiega anche i motivi. Da un lato lui sottolinea come sostanzialmente la storia del fascismo a Napoli e della Napoli durante il fascismo è insoddisfacente, queste sono le sue parole, da un punto di vista quantitativo, perché lui lo diceva nel 2013, ma credo che questa considerazione possa essere portata anche nel 2021, sono poche le ricerche che sono state condotte sul fascismo e sulla Napoli durante il fascismo al di là della figura di Aurelio di Padovani e anche in parte da un punto di vista qualitativo, perché lui diceva che comunque in alcune ricerche si sente l'utilizzo di paradigmi interpretativi per interpretare appunto il fascismo che sono stati, diciamo, superati da un punto di vista di storiografia nazionale. Ovviamente lui fa riferimento a che cosa però? Appunto alla storiografia locale. Lui questo, diciamo, metteva da un punto di vista, non dico sotto accusa, ma comunque evidenziava delle precarietà. E infatti questo testo non voleva essere di sintesi, ma diceva lui stesso voleva essere un puntone per, diciamo, studiosi e anche dottoranni per, diciamo, riaprire questa parte della storia della città appunto nel rapporto col fascismo. Diciamo che con me personalmente almeno ha funzionato, perché da questo testo poi sono partito. Riguardo agli obiettivi, allora, questo progetto non si pone l'obiettivo di fare una ricostruzione di Napoli durante il ventennio fascista, potremmo dire, nei suoi caratteri generali, ma vuole studiare una specifica relazione tra Napoli e il fascismo che è corsa, lungo potremmo dire, i canali di due slogan che divennero due veri e propri titoli che la città ottenne in periodi diversi. Il primo è Regina del Mediterraneo, che è stato coniato da Mussolini in persona nel famoso discorso a San Carlo che precede la marcia su Roma, cioè far diventare Napoli, una volta il fascismo sarebbe divenuto forza di governo, la regina del Mediterraneo. Successivamente quello di Porto dell'Impero, una volta appunto proclamato l'impero fascista. È interessante notare come questi titoli, al di là del piano propriamente storiafico, anche e soprattutto della pubblicistica, quando si parla di Napoli e del fascismo vengono molto spesso enunciati, come un leitmotiv. Però ecco, ci si limita a questo, a enunciarli, e non a caso, perché molto spesso si conclude che questi titoli altro non sono che propaganda, giustamente. Ora, lungi però dal fare apologia al fascismo, io credo che si possa andare al di là del piano retorico e porsi una domanda, che appunto è la domanda di questo progetto. È possibile ricercare dietro questi titoli, quindi anche al di là del piano retorico, propagandistico, una visione di città da parte del fascismo, che il fascismo coltivò per la città e quindi, in soldoni, un tentativo di che cosa? Rifunzionalizzazione della città e in modo particolare delle funzioni espletate dal porto della città. E questa è la domanda storiografia che muove questo progetto. Io ho fatto riferimento a due termini, visione e funzioni, che attengono un po' al piano storiografico mio di riferimento, ma anche metodologico. Il termine visione di città, io l'ho ripreso dalle letture di Galasso, Giuseppe Galasso, che già in tempi non sospetti, negli anni settanta, affermava come il fascismo avesse una visione di città. Però lui specifica, dice, facciamo attenzione però, una cosa è la visione e una cosa è il progetto di città, perché il progetto sostiene che è un obiettivo chiaro dei soggetti e delle risorse che sono altrettanto chiare e stabilite e dei tempi più o meno certi. Tutto questo, dietro a questi titoli, non c'è, non si vede. Sono degli indirizzi operativi che giustificano e muovono diverse operazioni e comunque processi che comunque vengono posti in essere da parte del fascismo. Invece funzioni guarda molto più, diciamo, a delle letture che per me sono state molto importante nella formulazione della domanda. E funzioni rimane al campo che, potremmo dire, che non è proprio storiografia, cioè la geografia. I studi di geografia per me, e soprattutto geografia marittima, portuale per me, sono stati molto importanti. Due autori su tutti, diciamo, sono stati importanti per questa ricerca, sono Aldalberto Vallega e Andrei Vigari, sono studi anche della circolazione marittima. Perché? Perché la geografia mi ha permesso di vedere, approcciarmi a questa domanda considerando il porto in generale, non come un elemento puramente statico, cioè quindi come un luogo di arrivo e di partenza di biroscafi, di vettori, dove si manipolano le merci, ma come un ruolo di interrelazione tra due spazi differenti, l'entroterra e il retroporto, e quello che geograficamente si chiama l'avammare, cioè le relazioni che un porto costruisce con un altro porto, e soprattutto con l'iterland di quel porto. Ma non è solo la geografia che è importante, perché anche il piano storiografico ci può offrire una visione molto simile a quella della geografia, che è quella della New Maritime History e del gruppo di storici che ruota intorno all'International Maritime History, perché questi studiosi partono da un assunto, che i mari e gli oceani in generale possono essere visti al di là di uno spazio meramente fisico, divisivo tra i continenti, ma anche come spazi socialmente e culturalmente costruiti, percorsi che non necessariamente sono materiali. Quindi, unendo i due aspetti, sono venuto a coniare che cosa? Un sistema che mi permettesse di mettere a sistema le fonti, di rapportarmi alle fonti per rispondere a questa domanda. Quindi io ho immaginato questo studio come lo studio di un fascio di relazioni che dalla città di Napoli e dal suo porto si dipanasse nel Mediterraneo, ovviamente concentrando la mia attenzione su quelle relazioni intessute con l'oltremare, che non necessariamente sono fisiche, cioè non necessariamente sono caratterizzate da un piroscafo che parte, ma possono essere appunto immateriali. E nel mio caso, per esempio, sono state anche le relazioni tipo creditizio, lo studio di una banca napoletana che si specializza nel credito in Colonia e che fa credito in modo particolare a una impresa napoletana che apre uno stabilimento a Margherita nel 22 sul fiume Giuba e che per finanziare apre degli sportelli in Irpinia, in Avellina, e quindi vediamo come questa relazione mette insieme e unisca due territori distanti e, potremmo dire, completamente diversi, che non hanno nulla in comune, relazioni anche e soprattutto dei servizi, uno su tutti i servizi sovvenzionati marittimi. Se davvero il fascismo puntò sulla città, come disse, come proclamò, allora noi dovremmo, quello che io ho cercato di fare, sto cercando di fare, uno studio dei servizi marittimi, cioè cercare di vedere se il fascismo concentrò a Napoli le teste di linea, le sedi di armamento di queste linee e ovviamente facendoci vedere dove poi toglie, perché questa è una vera e propria battaglia che si viene a creare per i servizi marittimi, soprattutto tra le città tirreniche durante gli anni del fascismo. Riguardo invece alle ipotesi interpretative, ecco, parto da quello che il fascismo ci racconta, perché effettivamente poi questa ricerca ha subito delle mutazioni in corso d'opera, soprattutto grazie alle fonti che sono venuto, diciamo, che ho utilizzato e che ho scoperto letteralmente in alcuni di questi casi. Soprattutto nella cosiddetta fase imperiale, cioè quindi gli anni, potremmo dire, al 36, io mi fermo a 40 prima dell'inizio della guerra, soprattutto tutta una serie di fonti a stampa, propagandisti che celebravano l'impero, Napoli porto l'impero, quindi soprattutto fonti, potremmo dire, locali, parlano di questo, cioè utilizzano questo termine, secondo tempo. Napoli si trovava a vivere il suo secondo tempo. Il primo tempo era l'unità, il fatto che Napoli entrava nella grande famiglia delle città italiane, così veniva detto, ma entrava senza un ruolo, senza una funzione, era solo l'ex capitale buarbonica. Il fascismo dona, anche questo è un termine che ritorna spesso, dona alla città una funzione, quella appunto di essere il porto di riferimento, un grande porto nel Mediterraneo, è il porto di riferimento per le colonie. Ora, rispetto a questa visione, rispetto a questa, potremmo dire, narrazione di città, perché da un certo punto di vista si costruisce un inizio palingenetico, cioè l'impero, la programmazione dell'impero per la città significa un nuovo inizio. Invece, soprattutto, diciamo, suffragato dalle fonti, secondo me l'impero, la fase imperiale, non è un nuovo inizio, ma è un punto di maturazione di un discorso mediterraneo e coloniale di più lunga durata, che per certi aspetti, per molti aspetti, precede anche il fascismo e che trova, secondo tutte le fonti che sono riuscite a evidenziare, nel primo dopoguerra, quindi negli anni del 1918-1991, il suo periodo di incubazione. Quindi, diciamo, è stata una storia ritrosa. Poi, seconda ipotesi interpretativa, riprendendo quello che Galasso ci dice della visione di città, si può aggiungere qualcosa, cioè nel senso, se abbiamo ipotizzato che dietro Reggina del Mediterraneo, Porto d'Impero, ci possa essere stato, appunto, una visione di città, allora è possibile, la domanda che ho fatto prima a me stesso e per le fonti, pensare che nel passaggio da anni 20 e anni 30, quindi da Reggina del Mediterraneo a Porto d'Impero, ci sia qualcosa di più di una semplice staffetta retorica? Cioè, la domanda è, cambia la visione di città che il fascismo ha per Napoli tra anni 20 e anni 30? Dire Reggina del Mediterraneo significa avere in mente la stessa città? Sono gli stessi soggetti? Sono le stesse azioni che vengono portate in essere? O c'è un mutamento? Stessa cosa, come ho detto ora, un po' diciamo, qualche minuto fa, il fatto del primo dopoguerra, perché effettivamente io ho notato dalle fonti come ritorna in maniera molto forte quest'altro titolo, quindi in teoria i titoli sono tre, che è Porto dell'Oriente. In verità, Porto dell'Oriente è un titolo di ottocentesca natura, cioè nasce nella seconda metà dell'Ottocento in connessione con l'apertura del canale di Suez e successivamente si lega anche alla vicenda della prima guerra d'Africa, però ritorna in maniera molto forte. Napoli deve essere il Porto dell'Oriente. Allora, la domanda che si pone è un'unica visione di città che cambia semplicemente un nome oppure ci sono delle variazioni e se ci sono, qual è l'evento soglia? Cioè il fattore periodizzante che mi permette di dire sì, effettivamente c'è uno scartamento che mi permette un passaggio di questo genere e devo dire ho trovato il fattore periodizzante soprattutto grazie ai colloqui avuti con Paolo Frascani che mi ha suggerito di elevare diciamo come un fattore periodizzante il tempo della crisi. Cioè di evidenziare come le due crisi economiche nel 1921 e nel 1929 effettivamente siano due eventi periodizzanti per la città in primis perché colpiscono il tessuto produttivo socio-professionale rimescano le carte in campo e anche i livelli di contrattazione tra centro e periferia cambiano le strategie ovviamente anche di azione. Un'ultima ipotesi interpretativa e poi diciamo mi taccio che però è quella a cui tengo personalmente di più cioè nello sviluppare come detto il fascismo parla di donare dona la città cioè quindi c'è questa azione anche potremmo dire di esogena di immaginazione dall'esterno il fascismo dall'alto quindi una versione top down dona questa versione della città io invece tento di mettere in evidenza tutti quei fattori bottom up cioè vedere come effettivamente invece c'è una forte spinta dal basso che non è solo una spinta di richieste ma anche fattiva perché poi vengono cioè la locale camera di commercio per esempio mette in campo una fiera campionaria di Napoli viene creato un museo commerciale coloniale vengono create tutta una serie di manifestazioni di eventi corollati si cambia l'ordinamento di alcuni istituti economici della città per potenziare l'apporto di beni coloniali in settori tipici della città tipo la lavorazione delle pelli la lavorazione del corallo quindi c'è c'è un'attività sul territorio che io tento di evidenziare lì poi la domanda e qui concludo che è la domanda che ovviamente pongo prima a me stesso è capire i livelli di contrattazione se è un'immagine compartecipata cioè ci sono elementi dal basso spinta dal basso ma c'è anche un progetto all'alto come si lavora c'è chi sono i soggetti soprattutto nel corso del tempo la trazione com'è diciamo la visione attrazione locale o attrazione potremmo dire dall'alto ed effettivamente almeno per quanto diciamo sono arrivato in questa ricerca nei primi anni ancora poi inoltrate anni venti questa visione mediterranea è soprattutto di spinta locale negli anni 30 invece cambia la situazione c'è un forte rimescolamento e quindi diventa un progetto all'atto con caratteri anche diversi rispetto diciamo agli anni venti penso di essere stato si spera nei tempi è stato puntualissimo anzi se vuole ancora qualche minuto se vuole una breve conclusione mi dica lei diciamo io comunque come hai detto mi concendo soprattutto nel capire anche se ci sia stata potremmo dire un iterlan produttivo interessato a questi beni coloniali e ovviamente studiare dall'altro lato quali erano i ceti i gruppi economici interessati a questa spinta della città e quello che è emerso almeno nei primi anni ed è un dato interessante come in fondo ci troviamo con l'affermazione pure del fascismo quindi negli anni dal ventidue in poi di fronte a due minoranze due minoranze però diventano maggioranza riescono a acquisire diciamo la maggioranza all'interno dei propri circuiti e soprattutto organismi di rappresentanza una minoranza economica che è interna alla Camera di Commercio che però spingendo su questa idea di destino mediterraneo e legandosi col fascismo riesce a ottenere diciamo proprio il predomini all'interno della Camera di Commercio stessa cosa il fascismo e lì c'è poi il discorso tra fascismo locale e fascismo nazionale perché fin quando c'è Padovani c'è un discorso di promozione del porto di Napoli a livello nazionale cioè di partito nazionale che confligge con altri fasci di città marittima in prima ma fra tutti con Genova cioè c'è una lotta interna tutta interna al partito fascista tra il fascio di Napoli a cui da Aurelio Padovani e quello di Genova che si nasconde sotto i molti alalà e che dimostra come i fasci cercano i fasci delle città marittime cerchino a un certo punto di vista di essere anche intermediari di una cosiddetta società portuale cioè di tutti quei soggetti socioprofessionali le cui attività sono legate al porto quindi armatori spedizionieri case commerciali diciamo penso vola di aver finito la ringrazio molto per essere rimasto nei tempi per avere appunto educleato le problematiche le sue domande le fonti la sua interpretazione quindi penso che questo ci consentirà poi una una discussione molto produttiva ma nel frattempo ringrazio e lascio la parola al suo discussant che è il professor Luigi Muzella che chiederei a cui chiederei di intervenire e a cui come detto più o meno insomma lasciamo una decina di minuti ovviamente senza essere fiscali bene io ho letto ho sentito ora il diciamo la la relazione fatta dal dottorando ho letto anche un paper e devo dire francamente che per quanto ricca di 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 spunti diciamo questa ricerca però non mi non mi chiarisce ancora bene il problema perché sia nel paper che nella descrizione fatta ora io vedo molte dimensioni molte questioni si accenna a un diciamo a una critica questo soprattutto nel paper alla metodologia agli stereotipi però non capisco bene la dimensione di questa analisi cioè il tema principale mi sembra che sia quello del periodo fascista che però nel corso della descrizione viene in qualche modo smentito perché perché se noi limitiamo la questione al fascismo e quindi se il tema centrale è quello di capire la visione del fascismo si è parlato anche di una visione urbanistica del fascismo che è un altro problema ancora molto grosso e che non è solo italiano come si sa diciamo la questione urbanistica e architettonica è una questione proprio generale mondiale in qualche modo in questi anni basta pensare al testo di Schivelbush che paragona l'architettura la visione della città in realtà molto diverse non solo quella fascista ma quella nazista quella statunitense e quindi questo è un altro tema poi ci sono dei riferimenti al al commercio al porto alla funzione del porto e a questo proposito si insiste sul fatto che e si scopre secondo me una cosa ovvia che il fascismo forse ha inciso fino a un certo punto perché dei processi di ampliamento della città di relazioni interne e esterne partono da molto prima e allora qua non capisco se questo problema lo si può legare troppo al fascismo un'altra questione è sul fatto di della costruzione ecco alcuni aspetti richiamano un'opinione la costruzione di una visione ci si è riferiti a dei periodici no che sostanzialmente cercano di dare una visione della cultura fascista in relazione a questo porto che deve essere l'apertura verso le colonie eccetera anche qui allora di cosa vogliamo parlare cioè mi sembrano mi sembra che gli spunti sono tanti però non ci sia un una idea prevalente perché se vogliamo parlare delle relazioni del ruolo anche mediterraneo della città attraverso l'analisi per esempio dei commerci che partono dal porto e si sviluppano nel mediterraneo questa è sicuramente una questione che può avere il rapporto anche col fascismo ma non solo col fascismo né tantomeno può avere uno strettissimo rapporto con la visione diciamo del come dire di di Napoli come capoluogo di una potenza che abbia nelle colonie e dei riferimenti perché la questione è più grande poi si accende e quindi questo è un tema che viene fuori viene un altro tema che è quello della visione del fascismo appunto chiarire il fascismo che ruolo voleva dare a Napoli e quali erano i contenuti diciamo di questa politica verso Oriente verso eccetera che diceva il dottor Anno questo è un altro tema che anche qui non capisco bene diciamo fino a che punto può essere sostanziato e fino a che punto può collegarsi ad una dinamica economica e commerciale che prescinde dal periodo fascista poi si parla Salvatore diciamo si riferisce anche ai centi la Camera di Commercio ha insistito oggi molto sulla Camera di Commercio ma la Camera di Commercio andrebbe cioè quali rapporti ci sono cioè quanto la Camera di Commercio è realmente rappresentativa di settori commerciali finanziari imprenditoriali e questo è un tema che secondo me è un altro tema un grosso tema cioè non è automatico quindi e questo mi sembra un'altra questione che andrebbe valutata attraverso fonti diverse no? Nel paper che ho letto si accena molto a delle fonti di natura amministrativa il Salvatore parla di fonti prefettizie del gabinetto di alcuni ministeri eccetera anche qui c'è il limite delle fonti amministrative cioè non so quanto si possa dire cioè tutti noi sappiamo che le prefetture specialmente in periodo fascista avevano una funzione meramente diciamo eh come dire confermativa in qualche modo delle domande che lo stesso governo centrale poneva e quindi questo è un'altra dimensione ancora cioè mi sfugge quindi dicendo queste cose si vede al tempo stesso la ricchezza delle tematiche però mi sfugge quale possa essere il tema centrale della fisica ma soprattutto mi sfugge la domanda metodologica perché anche nel paper si parla di reti di relazioni oggi parlava di reti commerciali di reti economiche poi si parla di cultura e ora la domanda metodologicamente quanto più chiara è tanto più può rimandare a delle fonti precise che possano rispondere alla domanda e che proprio per questo vanno analizzate criticamente per cui ecco la dimensione per dire questa sì sarebbe una cosa molto internazionale di Napoli no vi ho parlato di tutto un periodo in cui Napoli non la si può vedere solo all'interno di Napoli ma proprio nelle sue dimensioni faccio per dire un esempio si sa che la città viene a un certo punto durante la guerra viene di Isatra prima i tedeschi poi gli americani c'è tutto all'interno della città un confronto sul comportamento degli uni e degli altri questo rimanda ovviamente al ruolo strategico della città allora mi domando questo ovviamente prescinde dalle cose dette da Salvatore quanto non potrebbe essere interessante una lettura da fonti esterne da fonti che sono a volte disponibili online e che potrebbero parlarci anche della realtà politica perché per esempio se noi vediamo le fonti americane le fonti diplomatiche americane ci rendiamo conto di come si sapesse molto bene del comportamento dell'adesione al fascismo o meno i settori della società civile e a queste cose c'è stato poi una ricaduta sul piano diplomatico Napoli è stata contesa noi abbiamo anche delle figure che potrebbero farci capire quanto e fino a che punto alcuni settori della società civile napoletana collaborarono si affiancarono alle forze alleate per delineare per raccontare per descrivere a volte anche in funzione anche militare allora questo è un tema che secondo me potrebbe effettivamente aprire qualcosa di nuovo che secondo me invece rischia di far rimanere l'analisi sempre all'interno e solo della realtà napoletana attraverso fonti locali cioè io sono d'accordo tra l'altro Salvatore cita la storiografia è vero cioè manca molto la storiografia però ho la sensazione che Napoli come tutta la storia d'Italia potrebbe avere un grande chiaramente addirittura far cambiare proprio l'immagine della città se si andasse al di fuori cioè se si utilizza anche perché Napoli come tutto il nostro paese faceva già parte di un gioco ben più ampio no? Molto molto dinamico e che però spesso lascia il passo e di qui poi tutti quegli stereotipi a cui si fa Salvatore nel paper cioè l'insistenza sugli stereotipi della città è anche dovuta ad una storiografia che spesso è rimasta sempre solo all'interno e di questo mi faccio anche autocritica nel senso che non sempre la storia d'Italia si può fare attraverso la storia d'Italia cioè se non si esce al di fuori non si ha l'immagine per cui si sono esaltati dei temi e si sono ritenuti dei temi tipicamente della città di Napoli quando in realtà non sono temi e in questo però possono essere anche delle comparazioni che spesso gli storici italiani non hanno fatto ma esistono storici, sociologi sulle dinamiche politiche sulle dinamiche esistono delle comparazioni diciamo anche da parte di italiani che non lavorano nelle nostre università sulla città insomma non so se uno vede per esempio Salvatore parla della politica se uno vede questa bella ricerca fatta molti anni fa ormai da Eleonora Pasotti diciamo in inglese si vede come si cerca anche la politica o Judith Chab cioè si cerca di capire meglio le dinamiche della politica che non siano quegli stereotipi di cui si diceva la monartiglia Napoli non è fascista cose di questo allora io direi come tanto per sintetizzare questo ho detto troppo che l'impostazione mi sembra molto vivace interessata a voler cambiare però mi sembra che ci sono troppe cose e che forse perlomeno a me sono poco chiari la domanda metodologica storiografica chiamiamola così e le fonti a cui rimandare alla luce di una domanda che sia molto più precisa ecco questo penso di aver detto più o meno poi se casomai posso intervenire nella discussione grazie grazie mille io lascerei immediatamente diritto di replica a Salvatore e poi sentiamo se ci sono ulteriori domande per il nostro dialogo quindi Salvatore a lei rispondere a queste puntuali direi e piuttosto significative importanti osservazioni sul focus direi su qual è il problema centrale attorno al quale organizzare la sua tesi e da lì le fonti chiaramente utili per rispondere alla domanda prego sì diciamo su un piano storiografico nazionale soprattutto per quanto riguarda la storia del colonialismo italiano quello che vorrei evidenziare è che questa è una storia economica e come è stato già detto da diversi studiosi manca ancora un'analisi economica diciamo del colonialismo italiano e quello che io vorrei mettere in evidenza è che al di là dell'idea di imperialismo straccione comunque c'erano interessi economici mossi da alcune autorità da alcuni personaggi faccio ora i nomi Biagio Borriello che poi diventa commissario della camera di commercio che è anche presidente di quella banca di cui per un anno diventa presidente di quella banca di cui ho parlato ci sono importanti famiglie di spedizionieri che spedizionieri che lavorano sempre cioè che si trovano sempre all'interno della camera di commercio che prevano perché come ha detto anche il professore la camera di commercio rappresenta diversi settori non è un unico blocco compatto ci sono delle fratture all'interno soprattutto perché la fiera campionaria nel Napoli che si specializza proprio nei beni coloniali e nell'economia marittima dopo la quinta edizione fallisce fallisce perché non ha mercato non vengono espositori e infatti ci sono tutta una serie di critiche che vengono mostre all'establishment della camera di commercio che continua però a puntare su questo su questa idea poi sui limiti effettivamente di questa idea se ne potrebbe parlare perché effettivamente ci sono degli interessi interessi che sono di una piccola potremmo dire pattuglia di uomini che però grazie a l'alleanza che si viene a generare diciamo che diventa la piattaforma sul quale il fascismo napoletano dal mio punto di vista e questo gruppo di imprenditori dialoga poi sul progetto ovvero proprio ci sono tutta una serie di limiti che io nello stesso diciamo nella mia stessa ricerca evidenzio perché poi alla fine l'economia napoletana appunto approcciandomi a una dimensione più internazionale pur essendo un porto geograficamente mediterraneo è un porto atlantico a punto di vista commerciale cioè guarda soprattutto agli Stati Uniti questo anche durante gli anni del fascismo quindi diciamo c'è questa considerazione su diciamo da un so un po' salto dire ho capito quali sono i problemi e diciamo ne prendo atto e va grazie Salvatore allora io chiedo se sulla chat sono comparse mi sembra di no sto controllando delle richieste di intervento e di domande sì ecco la prima benissima di Alessandro Capone a cui lascio immediatamente quindi la parola grazie Alessandro grazie Ilaria buonasera a tutti i colleghi e gli amici innanzitutto complimenti perché mi sembra davvero una bella ricerca molto molto interessante da tanti punti di vista e avrei appunto come scrivevo in chat soltanto una curiosità esiste hai notato emerge dalle fonti un ruolo autonomo della monarchia rispetto a questi progetti che provengono dal regime e si può notare un rapporto diverso una configurazione di rapporti diversa tra gli attori locali l'elitto commerciale e politiche locali e la monarchia in quanto istituzione o la posizione della monarchia è sovrapposta a quello del regime in questo progetto grazie mi rispondo già subito si si no al momento io non ho trovato riferimenti a diciamo un ruolo diretto indiretto della monarchia in questi in questi aspetti c'è sicuramente un discorso potremmo dire di ministeri cioè quindi potremmo dire di un aspetto politocratico all'interno dello stesso fascismo in modo particolare il ministero delle comunicazioni di Ciano e degli interessi che vengono maturando all'interno dello stesso ministerio e delle figure diverse tra il fascismo ma a livello monarchico diciamo non è emerso niente anche io avrei una domanda se posso così mentre aspetto se qualcun altro si vuole prenotare proprio per insomma cercare di venire incontro con alcune delle osservazioni che sono state fatte appunto su qual è il vero focus qual è la vera domanda il suo filo rosso adesso fino a quel momento diciamo su quali fonti ha lavorato cioè su quali su quali fonti sta lavorando per cercare anche di orientarsi perché spesso poi sono le stesse fonti che ci permettono di riorientare la nostra domanda non è sempre detto che il percorso sia unilaterale una domanda e trovo la mia risposta nelle fonti da questo punto di vista se ci può dare un qualche dettaglio in più magari ci aiuta a capire ancora di più insomma la sua strada la strada che sta prendendo sicuramente una delle fonti principali è quella del PCM la presidenza del consiglio dei ministri perché lì si ritrova diciamo tutte le spinte le richieste le proposte le relazioni anche diverse attività produttive e iniziative che vengono fatte nell'area campana poi c'è sicuramente l'ispettorato dei servizi marittimi quindi il ministero delle comunicazioni per quanto concerne le sovvenzioni e la richiesta di teste di linee e le varie commissioni di riordino che poi ci sono in cui poi sono anche presenti membri dell'area napoletana che combattono negli anni venti per ottenere appunto le sedi di armamento per le linee coloniali cosa che non ottengono quindi potremmo dire almeno negli anni venti è una regina senza corona cosa che cambia negli anni trenta perché negli anni trenta proprio perché c'è la crisi del ventinove il novanta per cento del comparto marittimo passa nelle mani dello Stato c'è una ridistribuzione che effettivamente va a favorire Napoli perché Napoli diventa la testa di linea dalla fusione della cifra e della floria poi alcuni archivi privati per esempio archivi che poi alcuni di questi a maggior parte ormai sono difficilmente consultabili nello Stato in cui ci troviamo per esempio archivi di istituti come appunto l'Istituto per la lavorazione delle pelli che ancora esiste l'Eteristituto ancora esiste a un piccolo archivio in cui c'è che cosa il tentativo da parte di coloro che poi sono messi a capo di questo istituto che sono sempre le stesse persone fanno sempre parte di quella pattuglia di potenziare che cosa appunto l'utilizzo per esempio di pelli providenti da Libia nel settore della lavorazione del guanto napoletano che era uno dei prodotti potremmo dire di punta dell'economia napoletana stessa cosa l'Istituto per la lavorazione del corallo di Torre del Greco che è in provincia di Napoli e nel golfo di Napoli che aumenta la lavorazione diciamo sono anche tentativi potremmo dire antelittima autarchici perché si parla di import substitution cioè di sostituzione di materie prime e beni provenienti da altri paesi poi un fondo che per me era anche interessante per capire le dinamiche ecco di confronto incontro tra cedro economico cittadino e fascismo era sicuramente il fondo censato di Giuseppe censato direttore e amministratore della social meridionale che è conservato in fase di spostamento ora nell'archigo Enel nel quale censato poi diventa una figura di primaria importanza negli anni trenta nel mondo economico napoletano nel quale emerge gli interessi diciamo nel senso e comunque la società meridionale dell'elettricità poi diventa anche proprio una holding quindi ci sono anche partecipazioni in altri settori comunque gli interessi per esempio della costruzione di dighe in Etiope durante l'impero stesso poi come altri arti e archivi diciamo sono quelli ministeriali il ministero all'interno anche può essere un utile archivio e ovviamente poi la segreteria particolare del luce da cui ricavare informazioni grazie vedo che c'è anche un'altra domanda per lei Simon vorreva intervenire prego credo che lei abbia volevo dire tre cose credo che lei abbia giustamente sottolineato come questo ruolo di Napoli inizia a delinearsi già ben prima del fascismo e che quindi sia importante distinguere la retorica dai meccanismi di funzionamento economico e dico questo perché forse per come almeno lei rappresentate avendo anche letto il suo paper dovrebbe più chiaramente enfatizzare che lei si sta occupando come ha fatto adesso come ha detto adesso in risposta al professor Musella del ruolo economico di Napoli in particolare del porto di Napoli perché dal suo paper di presentazione della ricerca sembra voler in qualche modo delineare una storia di Napoli durante il fascismo cosa che invece è un progetto più ambizioso quindi una ulteriore messa a fuoco di questa dimensione economica credo sarebbe importante e l'enfasi e l'esposizione che lei ha fatto delle fonti sollecitate dalla collega Pavan ha appunto messo in luce che alla fine soprattutto di questo si tratta d'altra parte mi sembra importante tenere assieme la dimensione retorica quella appunto dell'esperienza e delle vicende economiche e questo può essere probabilmente già misurato nella fase dell'Italia liberale mi è venuto in mente che sarebbe interessante confrontare se lei non ha già avuto occasione di farlo gli iscritti ad esempio di Scalfoglio importante giornalista napoletano che sono raccolti non a caso nel 36 mi pare che riguardano però gli anni 80 e 90 dell'800 il post d'Ogalì che sono anche corrispondenze dall'Africa se non sbaglio di Scalfoglio che comunque sposano completamente la retorica diciamo africlanista per capire appunto anche quando e come si forma questa retorica rispetto al ruolo di Napoli se già c'è negli iscritti di questo importante giornalista napoletano e quanto questo è in collegamento o in contrasto o che rapporto c'è con i concreti sviluppi economici che mi sembrano già segnalati nelle ricerche di la banca del volume di marcia per Adua rispetto a Napoli proprio quindi forse diciamo una proiezione all'indietro sull'epoca liberale con alcuni sondaggi ad esempio questo che le suggerivo di Scalfoglio potrebbe essere interessante in qualche modo rivelatrice un altro aspetto che mi sembra interessante suggerirle parlandole come faccio da Venezia è un confronto lei alludeva al confronto con Genova è un confronto con Venezia perché anche per Venezia dopo la prima guerra mondiale con la nascita di Marghera e anche prima con le vicende portuali proiettate nel Mediterraneo si crea un si pone diciamo la questione del ruolo economico di Venezia della sua penetrazione nell'Adriatico nel Mediterraneo e il rapporto da studiare ma che in parte abbiamo iniziato a studiare tra appunto il ruolo economico effettivo di Venezia tra Italia liberale e fascismo e retorica della venezianità e dell'imperialismo veneziano che in quel caso diciamo risuscita le glorie della Repubblica di San Marco su questo l'insegnante c'è una ricerca recente di un nostro dottorando che ha pubblicato una versione ampliata della sua tesi laurea su Venezia e l'ideologia dell'imperiale che tra l'altro mette a fuoco il ruolo di Ca' Foscari anche quindi è interessante vedere potrebbe lei potrebbe verificarlo anche per l'Università di Napoli se ci siano in epoca fascista studi e insegnamenti di argomento coloniale che sostengono anche con indagini geografiche antropologiche oltre che economiche la retorica e l'impegno e l'ideologia imperialista di Napoli questo può farlo ad esempio con un confronto con il caso di Venezia che presenta alcune analogie a mio avviso prima di rispondere forse il mio suggerimento è di sentire anche gli altri due interventi che sono prenotati abbiamo credo Gia Cagliotti e Arianna Sì un unico avvertimento per qualche ragione non mi funziona la manina che segnala le vostre e quindi vi chiederei sempre di scriverlo nella chat così sono più sicura di non perdere le richieste di intervento prego Sì molto rapidamente dunque alcune cose sono state già in qualche modo come dire accennate o sollevate diciamo dagli interventi che mi hanno preceduto io avrei diciamo intanto un paio di curiosità innanzitutto una curiosità relativa alla periodizzazione cioè dentro questo arco temporale che lei studia qual è diciamo è il momento appunto della della proclamazione dell'impero questo non mi è chiarissimo il momento di accelerazione in qualche modo di questa rifunzionalizzazione dell'economia napoletana e del porto di Napoli o è un processo che inizia sostanzialmente dal primo momento il tema mi sembra un tema molto interessante tra l'altro anche in anni recenti è tornata un po' questa retorica di Napoli porta del Mediterraneo Napoli che deve guardare al Mediterraneo eccetera eccetera laddove invece appunto Napoli probabilmente per gran parte della sua storia pre-fascista al Mediterraneo non aveva guardato quasi per niente diciamo dal punto di vista come lei stesso accennava i rapporti diciamo commerciali di Napoli erano rapporti più euro-atlantici che non con la sponda settentrionale del Mediterraneo anche perché come dire c'erano sicuramente rapporti legati al fatto che c'erano i corallari il commercio la pesca del corallo che si estendeva evidentemente verso il Mediterraneo c'erano i rapporti commerciali legati alla pesca e quindi la costa settentrionale dell'Africa la Tunisia in particolare ma in realtà questi rapporti erano molto più forti probabilmente per la Sicilia e per la Sardegna che non per Napoli come hanno dimostrato una serie di ricerche recenti fatte soprattutto nell'ambito di un gruppo di lavoro all'Ecole Française d'Arom quindi innanzitutto diciamo la mia prima domanda che è veramente una domanda di pura curiosità è una domanda sulla periodizzazione la seconda questione che ha sollevato anche Simon Levis-Sullam è il confronto con gli altri porti perché l'Italia è un paese di porti e porti per certi versi anche più importanti di quello di Napoli il porto di Livorno il porto di Genova appunto il porto di Venezia il porto il porto di Trieste insomma è una è una e tra l'altro il porto di Napoli è un porto che durante il fascismo perde una delle sue più importanti attività che è quella dell'emigrazione la perde sostanzialmente a partire dal 24 per ragioni legate a Napoli è il porto da cui si parte per gli Stati Uniti per l'America e per l'America Latina quindi perde un'attività fondamentalissima la perde il porto e la perde anche in parte il Banco di Napoli che era il banco delle rimesse degli emigrati il banco per eccellenza diciamo delle rimesse degli emigrati la perde ovviamente sia per la legislazione per la concomitante diciamo presenza di una legislazione restrittiva del controllo delle emigrazioni negli Stati Uniti è perché il fascismo come sappiamo diciamo chiude sostanzialmente le proprie frontiere allora quello che mi piacerebbe un'altra cosa che mi piacerebbe capire appunto è capire meglio appunto questo fascio di relazioni con il Mediterraneo a cui lei accennava appunto perché accennava a una serie di e al fatto che c'è evidentemente in città una classe diciamo economica che è in grado di acchiappare queste opportunità insomma ecco che la retorica del fascismo e soprattutto diciamo la nuova geopolitica del fascismo riprende appunto uomini come Scensato ma presumibilmente diciamo anche altri altri gruppi penso anche diciamo al gruppo delle manifatture cotoniere meridionali no? che che era passato durante la prima guerra mondiale in mano in mano italiana e che produce o comunque insomma si va a prendere anche una parte della materia prima nel continente africano ma su questo diciamo mi fermo per non rubare altro tempo grazie Arianna se vuoi anche tu intervenire grazie molto brevemente grazie a tutti è interessantissimo questo questo spaccato che ho ascoltato io ho fatto una tesi dottorato lontanissima dai miei poi successivi interessi di di ricerca cioè l'ho fatta sulla ricostruzione di una politica mediterranea italiana negli anni cinquanta del novecento quindi tornare nel mediterraneo come e allora farei una proposta se ci sarà tempo e spazio nell'economia complessiva della sua ricerca perché sappiamo che poi tre anni volano opposta a quella di Simone cioè di andare un po' in avanti lei si ferma al quaranta però le persone gli uomini sono gli stessi nei primi anni cinquanta e ci sono delle carte molto interessanti all'archivio del ministero degli affari esteri che so che è di difficile penetrazione in tempi normali figuriamoci adesso ma c'è un momento in cui tra cinquanta e cinquantadue a Napoli si organizza la mostra d'oltremare e le personalità sono le stesse che hanno evidentemente un passato nel periodo fascista sono dei fiumi carsici tornano con interessi economici e nuove belleità e il ministero cerca di coordinare e di non far sovrapporre iniziative tra Napoli la fiera del Levante di Bari e iniziative della regione Sicilia molto molto aggressiva diciamo in questa ricerca di una nuova di un nuovo dialogo col mondo mediterraneo quindi forse personaggi personalità ambienti potrebbero essere recuperati e monitorati anche nel post perdita delle colonie così come penso le carte del consolato americano a Napoli debbano e possano per gli anni 30 quantomeno dare interessanti riscontri quindi era un po' di muoversi anche in avanti e di usare la fonte diplomatica che può darle per gli ambienti economici la fonte consolare molti elementi grazie e quindi lascerei la parola di nuovo a dottor Salvatore per posso aggiungere una cosa certamente prego a proposito di quanto è stato detto prima una figura alla quale ci si può riferire che invece in passato è stata trattata soprattutto da un punto di vista politico è quella di Achille Lauro che è uno degli armatori che ha degli interessi diciamo e che si può studiare anche attraverso delle fonti presenti al porto e che praticamente fanno capire l'evoluzione dei commerci che ha avuto Lauro che poi alla fine ha finito anche per ricoprire un posto diciamo non italiano nell'economia armatoriale e che attraverso la sua biografia può far capire i movimenti le relazioni che sono sia con l'Africa sia con i paesi occidentali secondo me più che censato secondo me nell'ottica della ricerca di Salvatore una figura del genere potrebbe dare parecchi risultati ecco basta grazie prego Salvatore a lei allora allora per quanto riguarda l'età liberale questo progetto si apre con un confronto con l'ottocento perché come ho detto il termine porto all'oriente non è di non nasce nel novecento ma nasce nell'ottocento quindi mi sono posto la domanda a quali differenze ci sono semplicemente un recupero o si immagina una città diversa perché effettivamente eduardo scarfoglio utilizzava questo termine già la seconda metà dell'ottocento porto all'oriente ed effettivamente secondo me si parla di due città diverse il primo dopo guerra porta a immaginare un porto all'oriente che è diverso da quello della seconda metà dell'ottocento perché nella seconda metà dell'ottocento si immagina un porto che è sostanzialmente di transito il transito per l'oriente per appunto l'estremo oriente soprattutto la rivoluzione geografica delle rotte geografiche grazie all'apertura del canale di Suez e grazie al ruolo che il porto di Napoli per la sua posizione strategica ha sempre avuto cioè di porto di bunkeraggio cioè sostanzialmente di rifornimento del carbone delle navi e di sfruttare questa posizione per essere un emporio commerciale un po' come doveva essere contestualmente Brindisi con la valigia delle Indie quindi a livello proprio merceologico potremmo dire delle merci che non superano la cinta taziaria del porto ma che vengono manipolate e poi semmai rivendute su altro pirosco che prendono la via del mare nella prima metà del cioè nel primo dopo guerra Porto-Loriente significa un porto industriale e questo è l'elemento di vera novità cioè c'è una forte argomentazione di tipo industriale che lascia il segno nel senso che io ho utilizzato questa espressione che secondo me è molto calzante per rappresentare la situazione di Napoli nel primo dopo guerra fatta di speranze che si coniugano un po' con le speranze di grandi potenze che ha l'Italia in generale nei primissimi anni del dopo guerra quindi 19-20 che è utilizzata Massimo Legnani nel 1972 in un articolo cioè la febbrile eccitazione Napoli nel primo dopo guerra si trova aveva una febbrile eccitazione perché crede di essere almeno nelle sue il mattino pure da questo punto di vista carica molto questa immagine industriale della città crede di essere appunto una città industriale cosa che la crisi appunto il 21 rimetterà fortemente in discussione perché quello fu diciamo un ingrandimento dovuto soprattutto alla domanda bellica ma proprio perché è un porto industriale il rapporto che si doveva creare in teoria questo si dice con le colonie doveva essere diverso con le colonie in Genè col Mediterraneo sostanzialmente doveva essere diverso non più un porto di transito ma un porto che ottiene materie prime semilavorate che servono ai processi produttivi del retroporto dove è stata costituita la zona franca con la legge del 1904 cioè la zona industriale per poi rispedire e esportare questi prodotti figli quindi anche un rapporto diverso con le merci nel primo dopoguerra come detto questa idea che poi ha anche dei tentativi di realizzazione come detto con questi tentativi di riforma di alcuni istituti diciamo collassa su se stesso con la crisi economica nel 1921 con l'affermazione di Regina Mediterranea e quindi con potremmo dire anche un'idea fascista di città si punta soprattutto su una visione commerciale della città quindi l'idea industrialista l'elemento potremmo dire l'argomento industrialista del porto cade tant'è vero che era iniziato anche fisicamente questo erano iniziati i lavori per la creazione di un canale navigabile che collegasse la zona industriale e il porto che il fascismo non finanzia più perché non è cioè sostanzialmente non percorre questa strada lo stesso il dispositivo che gestisce il porto nel prima dopoguerra nasce l'ente autonomo che gestisce sia il porto che ha autorità sia per il porto sia per la zona industriale proprio perché si immagina uno sviluppo sinergico delle due realtà questo ente viene sorpresso e viene nominato un reggio commissario anche proprio diciamo utilizzando una tipica operazione diciamo un fascista di concentrare in singola autorità negli anni del dopo ventinove e negli anni potremmo dire proprio dell'impero al 35 in poi si punta sull'immagine turistica della città commerciale e turistica si immagina che a Napoli arrivassero tutti diciamo non solo i viaggiatori per l'impero quindi i cittadini italiani e quindi rindirizzare quel traffico che come ha detto è stato perso per diciamo l'America per le colonie cosa che poi in parte avviene perché Mussolini dichiarava che in Asia sarebbero arrivati un milione di persone cosa che non è vera però comunque più di 300 mila italiani ci vanno in Africa e ci vanno con le navi soprattutto di Lauro che ottiene quasi il monopolio del trasporto infatti Lauro è una personalità che io sto cercando di studiare proprio perché è anche un po' l'emblema in generale il mondo dell'armamento napoletano che spinge perché ovviamente ha i maggiori interessi sui possibili parallelismi io uno non ho fatto e lo porto avanti secondo me l'analogia almeno nei primissimi anni più calzante è con Bari con Bari del Levante sia da un punto di vista probabilmente del fascismo perché lì vediamo che cosa abbiamo il fascismo urbano rappresentato da Araldo di Corollanza che dà voce e anche immagine con la sua penna perché lui scrive sul popolo d'Italia proprio della Bari del Levante che cerca attraverso queste immagini della città Ezio ritrovato ce lo racconta molto bene come i mercanti baresi guardino a quest'idea con molto favore e quello diventa un po' diciamo l'asse l'alleanza soprattutto che permette al fascismo urbano barese di tenere lontano distante il fascismo rurale pugliese una cosa simile secondo me avviene con il fascismo di Aurelio Iguadovani e lì ci sono anche gli interessi propri del fascismo perché il fascismo napoletano nelle sue prime organizzazioni sono proprio all'interno del porto quindi organizzazioni diciamo cooperative poi c'è tutto un discorso ovviamente proprio dei lavori al porto che mette insieme Napoli e Bari perché Napoli aspettava i finanziamenti per i lavori al porto che poi arriveranno effettivamente lo stesso Bari e tant'è vero se io ho letto alcune diciamo il ministero dei lavori pubblici per i lavori del porto di Bari si parla la camera di commercio di Bari prende ad esempio Napoli e chiede che siano fatti gli stessi quindi c'è anche una potremmo dire una comunicazione o comunque si guarda Napoli da Bari e qui ci sarebbe tutta la domanda secondo me estremamente interessante se a quel punto ci fosse una visione sistemica almeno regionale delle infrastrutture da parte del fascismo perché poi viene costruita anche la direttissima Napoli-Bari negli anni successivi sotto quali auspici sotto quali obiettivi questa potrebbe essere una domanda secondo me interessante poi non ricordo quali diciamo se ho risposto a tutto grazie comunque erano osservazioni che forse non richiedevano una sua risposta immediata quanto insomma un annotarsi queste osservazioni per ragionarci poi ovviamente a mente fredda con il tempo necessario per elaborare grazie mille Salvatore e quindi passerei al suo collega Giorgio Ennas che spero di vedere inquadrato buon pomeriggio a lei io non lo vedo ancora comunque mi vede? ecco sì 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 perfetto benissimo grazie allora sinteticissima presentazione del dottore Ennas che si è laureato a Venezia a Caposcari e sta ora svolgendo da poco credo se non ho fatto mali conti nel suo curriculum insomma è abbastanza agli inizi no no in realtà sono alla fine ho cominciato con due inizi con il dottorato questo quarto anno non so neanche fare due più due questo la sua la sua tesi appunto il dottorato la sta svolgendo all'istituto europeo di Firenze e il titolo dell'intervento oltre che della tesi è relazioni italo-ottomane tra 1865 e 1871 una prospettiva globale anche a lei 15-20 minuti insomma come al collega che l'ha preceduta per illustrarci insomma i punti salienti del suo lavoro grazie perfetto grazie mille innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti per essere qui vi ringrazio inoltre per aver selezionato il mio lavoro comincerò presentandovi in sintesi le fonti la struttura e le finalità del mio lavoro di ricerca cercando di lasciare un po' il più tempo possibile eventualmente per la discussione che verrà in seguito allora ho cominciato la mia riflessione dall'ultimo libro di Suraya Farocchi storica dell'impero ottomano di epoca moderna la quale evidenzia come per molti anni gli ottomanisti si siano accostati allo studio dell'impero ottomano e delle sue componenti regionali solo come ad entità isolate dal mondo esterno già anni prima alcuni storici come Fatsma Mughegecek e Selim De Ringhil avevano evidenziato il perdurare di questa tendenza nella storiografia ottomana ed espresso la necessità di andare oltre la retorica di uno stato ottomano separato in sostanza dal suo contesto internazionale e di ricontestualizzare le sue dinamiche interne ed esterne quello che è il suo ambiente naturale sostanzialmente muovendo da questa premessa la mia tesi ha come obiettivo un'analisi innovativa di quel complesso ed articolato fenomeno storico chiamato questione d'oriente in maniera molto generica il fine ultimo è quello di approfondire le dinamiche culturali esistite tra i diplomatici delle potenze europee invitando il lettore a guardare in un'ottica più globale e meno eurocentrica il dipanarsi di un processo che influenzò profondamente la storia europea e anche quella mondiale attraverso il confronto linguistico e tematico dei dispaci italottomani la tesi sposta il perno della questione orientale non più sull'incapacità dell'impero ottomano di contrastare le spinte nazionaliste nelle proprie province come di fatto viene fatto nella storiografia tradizionale ma piuttosto si focalizza su quali elementi culturali accomunassero i diplomatici ottomani a quelli delle grandi potenze nel diciannivesimo secolo la sopravvivenza di successo degli stati cominciarono ad essere sempre più legati all'abilità delle loro elite di sviluppare amministrazioni sempre più moderne ed efficienti quelle elite venero educate secondo le stesse linee guida di quelle europee con lo scopo esplicito di saper gestire guidare le riforme e l'assorbimento sempre più consistente di conoscenze provenienti dal continente europeo soprattutto da quei centri come Parigi e Londra e Vienna che per gli ottomani erano considerati diciamo centri propulsori della cultura europea in generale in questo processo educativo giocò un ruolo fondamentale allo studio del diritto internazionale europeo successivo al congresso di Vienna oltre che allo sviluppo di riforme l'acquisizione di tali conoscenze era finalizzata all'ampliamento dei rapporti politici e culturali tra gli stati e quindi questo era un processo che gli ottomani avevano già iniziato con la pace di Karlovic nel 1699 ma che subì un'impennata decisiva con il congresso di Vienna ed è proprio per questo motivo che negli 70 dell'ottocento la diplomazia ottomana era così profondamente interessata a partecipare a tutti quei congressi nei quali l'impero avrebbe avuto la possibilità di mostrare la sua modernità e l'aderenza ai principi della civiltà contrastando allo stesso tempo la riunione di qualunque congresso che avrebbe potuto avere come obiettivo la revisione della sua unità territoriale sostanzialmente quindi proprio partendo da questa considerazione è possibile comprendere come l'adozione di pratiche considerate moderne e l'adattamento della propria politica estera a delle linee guida internazionali non siano state semplicemente una questione di mimetismo strategico per l'impero ottomano come creduto in passato ma esse certamente permisero all'impero ottomano di evitare l'intervento europeo sul proprio suolo ma furono anche parte integrante del modo attraverso il quale l'elite ottomane ed anche quelle europee parteciparono al grande fermento culturale di quegli anni promuovendo ed allargando i principi del diritto internazionale al di fuori dei confini canonici dell'Europa occidentale così come è fatto da Francia Gran Bretagna ed Italia l'ambiente culturale globale sviluppatosi promosse una rinnovata sensibilità condivisa anche dai membri dell'elite diplomatiche europee esso riguardava soprattutto il loro senso di appartenenza alla nascente civiltà globale riprendendo la definizione di Fabio Grassi di spirito di gruppo però in una concessione più europea e globale proprio in quest'ottica la comparazione tra il caso italiano e quello ottomano è fondamentale proprio alla fine di evidenziare le affinità culturali esistite tra i membri della diplomazia europea nel caso ottomano inoltre nonostante il fascino esotico delle origini di questi diplomatici la presenza costante di Dei e Pasha nei circoli diplomatici europei conferma il fatto che essi fossero sostanzialmente considerati come membri a pieno titolo dell'universo diplomatico europeo proprio attraverso la comparazione dei documenti diplomatici prodotti dai membri italiani ottomani di questa elite europea globale internazionale la tesi vuole mettere in evidenza lo spirito di gruppo che esistette e che emerge chiaramente dalla lettura dei dispacci diplomatici in questo modo sarà anche possibile affrontare nello specifico ogni singola questione internazionale andando oltre la consueta narrazione teleologica della questione d'oriente avendo come obiettivo generale quello di invitare all'adozione di una nuova prospettiva riguardo a tale complesso fenomeno l'obiettivo che questa tesi si è posta è stato quello di rispondere alle seguenti domande gli anni 60 dell'800 possono venire effettivamente considerati come anni fondamentali per lo sviluppo e l'espansione del diritto internazionale in che modo le diplomazie europee ottomane adattarono la loro politica estera alla diplomazia di Parigi se lo stereotipo del turco e dell'orientale faceva generalmente descrivere i diplomatici europei nell'impero i sudditi del sultano come barbari e fanatici è possibile anche che la cultura diplomatica del XIX secolo abbia contribuito a creare un senso di uguaglianza tra i diplomatici europei e le loro controparti ottomane nel rispondere a tali quesiti questa tesi usa una serie di concetti di temi come connettori culturali tra i principali diplomatici di quest'epoca contribuendo a demolire definitivamente l'idea di una storia ottomana isolata dal suo contesto globale e di un mondo diviso tra Oriente e Occidente questa tesi identifica perciò tre obiettivi principali che accomunarono i diplomatici ottomani ed italiani il raggiungimento e il mantenimento della pace internazionale l'elaborazione e l'applicazione di riforme amministrative il riconoscimento dello status internazionale di grande potenza questi obiettivi sintetizzano a mio parere il paradigma culturale che caratterizzava ogni attore politico coinvolto nei negoziati internazionali degli anni sessanta del secolo inoltre questa condivisione di temi e pratiche diplomatiche indica una comunanza culturale la quale a sua volta prova l'esistenza di un generico senso elitario di appartenenza tra i diplomatici ottomani ed europei dai documenti riguardanti tale complesso fenomeno infatti emerge chiaramente un senso etico comune ai diplomatici europei ed ottomani basato su patriottismo servizio allo stato e appartenenza culturale agli ideali di una stratta e globale civiltà europea questa questa è anche questo costrutto impossibile da descrivere in maniera univoca questo senso di appartenenza è stato definito come una sorta di stato d'animo o sentimento condiviso come dice anche Schull di mood che avrebbe connesso tra loro i membri di questa prima comunità diplomatica globale a causa della tendenza di questa cultura diplomatica di essere simultaneamente europea ed internazionale il risultato fu l'accreazione di una prima classe elitaria che si percepiva allo stesso tempo come europea e globale e nella quale erano inclusi gli italiani così come anche gli ottomani per quanto riguarda i documenti analizzati le fonti ottomane hanno offerto un ottimo strumento per superare i limiti correnti della storia delle idee infatti grazie alla loro completezza e alla loro leggibilità questi documenti hanno permesso l'associazione di un approccio interdisciplinare che combina la storia globale la storia delle idee e la storia internazionale evitando allo stesso tempo il rischio di eurocentrismo dal punto di vista dei documenti dei documenti diplomatici ottomani scritti dopo il congresso di vienna emerge chiaramente un'etica diplomatica focalizzata sulla buona condotta internazionale degli stati i riferimenti costanti ai principi di legittimità al rispetto dei diritti di sovranità e al tradizionale diritto delle genti sono rilevanti per gli storici in quanto essi rappresentano il livello di assorbimento dei principi del diritto internazionale introiettati dalle eliti imperiali l'apprezzamento di qualità quali quelle del pragmatismo e della razionalità delle pratiche del diritto internazionale europeo è una prova dello sviluppo di una specifica modernità ottomana questi documenti dimostrano inoltre come nel caso ottomano questo processo di assimilazione di buone pratiche diplomatiche e la conseguente volontà di conformare la condotta delle relazioni internazionali a regole universali di razionalità e moralità fosse qualcosa che attraversava epoche e fazioni per questa ragione i documenti conservati nel di Istanbul l'archivio del primo ministro ottomano sono basilari per dimostrare il ruolo attivo giocato da agenti non strettamente europei ma coinvolti nel processo di allargamento del diritto internazionale in questo secolo al di fuori dai confini europei così come erano codificati per esempio da un'entità come la Santa Alleanza un fenomeno rimasto ancora largamente oscuro nei suoi dettagli questo allargamento anche i dispacci italiani collocati nell'archivio di stato e negli archivi storici del museo del risorgimento a Torino e all'archivio della Parnesina a Roma documentano l'evoluzione di un'etica diplomatica basata sulle medesime linee guida presso l'elite sardo-italiane anche se ovviamente si tratta di qualcosa di differente in quanto nei documenti sardo-italiani la componente sovversiva avrebbero definita gli ottomani era più marcata a causa del desiderio dell'elite sardo-italiane di ricontrattare l'ordine internazionale di Vienna e di Parigi i documenti presi in considerazione sono essenzialmente i dispacci diplomatici questo genere adottato come genere ufficiale per le comunicazioni diplomatiche fin dal congresso di Acquisgrana del 1818 si rivelò fondamentale per comunicare con rapidità tra governi e diplomatici riuniti a congresso ora il bisogno di rapidità ed efficienza richiedeva la composizione di brevi ed esaustivi documenti come ben sappiamo allo stesso tempo però la tecnologia del dispaccio che veniva utilizzata tra gli anni 50 e gli anni 70 presenta una ricchezza lessicale rimarchevole e una grande libertà degli autori nei contenuti infatti sono estremamente approfonditi come documenti perciò è facile rilevare come questi documenti ci forniscano informazioni riguardo non soltanto ai dati riportati in quanto tali ma anche riguardo al punto di vista e alla preparazione culturale di chi scrive degli scriventi per quanto riguarda la struttura della tesi in quanto tale ho lo suddivisa in 5 capitoli fondamentali il primo introduce brevemente il contesto globale nel quale andarono sviluppandosi le relazioni diplomatiche tra il congresso di Vienna del 1815 e quello di Parigi del 56 in particolare esso è focalizzato sulla transizione burocratica tra l'anzien regime e gli anni 60 l'obiettivo del capitolo in sostanza è quello di evidenziare l'universale volontà di tutti gli attori che ho avuto di modernizzare e razionalizzare le rispettive istituzioni diplomatiche sottolineare l'importanza comune che ebbero gli eventi internazionali e gli agenti diplomatici nel dare una forma precisa alle riforme dei singoli stati ed infine identificare la rilevanza che ebbero i manuali del diritto internazionale nello sviluppo di pratiche diplomatiche omogenee le quali produssero un comune senso di appartenenza nei diplomatici infatti la creazione di istituzioni educative europee o all'europea e l'adozione di manuali di diritto internazionale ebbero lo specifico obiettivo di uniformare l'educazione diplomatica allo standard europeo post Vienna per il caso italiano già Ruggero Moscati aveva dimostrato aveva sottolineato come l'adozione dei manuali di Wheaton e Fattel fosse stata una conseguenza delle riforme azeliane e che essa fosse stata condotta attraverso l'adozione di questi manuali al fine di imporre una standardizzazione e la formazione di una diplomazia sarda che fosse effettivamente moderna per quanto riguarda l'impero ottomano invece il rinvenimento delle liste dei manuali di diritto internazionale europei letti e studiati nel terjum odassé nella camera di traduzione conferma in maniera definitiva il ruolo svolto da tali testi nella rivoluzione culturale prodottasi nella diplomazia ottomana all'inizio del XIX secolo confermando quanto già sostenuto da Davison e Cuneralp il secondo capitolo analizza invece la condivisione del principio di pace internazionale inteso come stabilità all'estero e all'interno nonostante entrambi gli attori prendi in considerazione avessero idee differenti riguardo alle modalità di realizzazione di questo principio esso rimase effettivamente una priorità per entrambi anche se svilupparono il corpo diplomazio dico italiano e quell'ottomano avevano differenti idee di come portare avanti questo progetto gli uni cercando di rinegoziare appunto l'ordine di Parigi gli altri gli ottomani cercando di proteggerlo ad ogni costo il terzo capitolo analizza l'uso retorico del tema delle riforme modernizzatrici promosse dai rispettivi corpi diplomatici sia l'impero ottomano che il nuovo regno d'Italia infatti erano attori internazionali consci della precarità della loro posizione internazionale per tale ragione in questo periodo producero numerose riforme col fine di evitare l'interventismo delle altre grandi potenze in numerosi documenti emerge chiaramente la medesima paura dell'intervento internazionale anche attraverso il paragone con altre entità statali quali appunto il regno delle due Sicilie e l'impero zarista i quali assursero ammoniti delle possibili conseguenze dovute al prolungato rifiuto di riformare le strutture politico-amministrative le differenti versioni della modernità prodottesi grazie alle riforme si svilupparono intorno alle stesse idee ovvero quelle di centralizzazione standardizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione se le modernità prodotte in questo modo furono ognuna qualcosa di unico e peculiare a causa delle differenze socio-economiche di ogni regione globale secondo Schull il macro concetto di modernità civilizzazione rimase sostanzialmente qualcosa di astratto e teorico corrispondendo in genere ad uno stato d'animo e ad un costrutto socioculturale questo costrutto astratto dominò però in maniera piuttosto omogenea agli sforzi riformistici dell'elite di tutto il mondo attraverso il loro generico desiderio di razionalizzare ogni aspetto delle rispettive amministrazioni ed attraverso l'applicazione di idee quali quelle di centralizzazione e standardizzazione il quarto capitolo descrive invece la comune necessità di questi due corpi diplomatici di ottenere riconoscimento internazionale e preservare il loro status di grande potenza descritta nei documenti diplomatici italiani come la necessità di proteggere l'onore nazionale e in quelli ottomani di difendere l'onore del sultano in realtà la questione del riconoscimento dello status di grande potenza riguardava strettamente la sopravvivenza nell'arena politica internazionale la necessità di ottenere riconoscimento internazionale imposa ad entrambi i corpi diplomatici di insistere per la loro partecipazione a confesse e congressi per tale ragione questo capitolo realizza gli sforzi compiuti sia da ottomani che da italiani per venire ammessi a conferenze internazionali riguardanti i principati balcanici e l'isola di Creta fin dal concetto di Parigi del 56 fino a quello del 69 nel quinto ed ultimo capitolo infine viene analizzato come l'inaugurazione del canale di Suez nel 1869 e la guerra franco-crussiana del 1870-71 finirono per sancire la fine della cultura diplomatica degli anni 60 sia nel caso italiano che in quell'ottomano le trasformazioni geopolitiche dell'ordine internazionale del 56 ed il fallimento delle riforme civilizzatrici ottomane finirono per causare il declino di quel sistema che si basava sulla preservazione dell'equilibrio e dello status quo favorendo invece l'emergere ed il consolidarsi della realpolitik e della diplomatica dell'imperialismo come osservato da Mostafa Minawi e da Cesar Farah la fine della diplomatica di Parigi scusi dottor Ennas vorrei riportarla all'ordine e chiederle di arrivare verso la conclusione di questo intervento ok scusi in conclusione queste due potenze l'impero ottomano e il regno d'Italia uniti da alcuni principi assorbiti attraverso lo studio del diritto internazionale tra i 56 e il 71 procedettero sulla via delle riforme continuando a percepirsi entrambi e così anche le loro eliti diplomatiche come parte integrante della civiltà ottocentesca europea nel corso del processo di adeguamento a questo standard europeo queste due potenze svilupparono in maniera del tutto simile un senso di appartenenza al nuovo ordine basato sostanzialmente sugli stessi principi culturali e giuridici riassumendo quindi la tesi ha come obiettivo prima di tutto quello di offrire una nuova interpretazione della questione esploriente soprattutto attraverso l'analisi è la comparazione dei documenti prodotti dagli attori diplomatici che parteciparono alle conferenze l'altro obiettivo è quello di mettere in evidenza quindi la superficialità di una visione basata unicamente sulla contraposizione tra l'oriente e occidente rispondendo inoltre alle domande che abbiamo detto prima si vuole evidenziare come la trasversalità delle conoscenze della cultura offre una piattaforma privilegiata per compiere una disanima generale della questione dell'oriente andando oltre quelli che sono i paradigmi internazionali quindi analizzando lo sviluppo di questo diciamo di questo ambiente culturale globale europeo in uno spazio che andava sostanzialmente dallo Yemen fino a Londra comprendendo anche ovviamente poi gli Stati Uniti e altri emisferi ecco ho finito grazie grazie mille lascerei quindi immediatamente la parola alla sua discussa dalla professoressa Eliana Augusti e poi ripetiamo insomma la dinamica già avuta dopo il suo collega che l'ha preceduta professoressa buon pomeriggio buon pomeriggio grazie ma lei la parola e subito nel tema cioè avendo letto prima il paper e poi avendo ascoltato adesso la relazione di Enas ho avuto un piccolo disorientamento che deriva dal fatto di un evidenziato diciamo scollamento tra il titolo che Enas ha voluto dare diciamo a questo lavoro ad approfondimento a quelli che poi sono di fatto i contenuti perché parlando di una storia globale delle relazioni italottomane tra il 56 e il 71 mi aspetto di vederci all'interno di questa scatola di trovarci all'interno delle informazioni delle nozioni che comunque riguardino una ricostruzione di queste relazioni italottomane quindi mi aspetto di trovare una storia diversa che ha una prospettiva premiale quella globale ma che non trovo ma che invece mi mi porta immediatamente a confrontarmi con un'analisi comparativa invece che usa come fonti di spacci e che riguarda due posizioni estremamente periferiche nel dialogo internazionale nel periodo considerato perché stiamo parlando di un regno che ambisce a diventare qualcos'altro ma ha difficoltà a muoversi nel contesto europeo quale appunto il regno di Sardegna e un altro che di fatto è fuori da una discorsività giuridica comune a una discorsività internazionale comune quale appunto l'impero ottomano quindi c'è una difficoltà di comparare di comparazione tra due elementi due soggetti che sono completamente diversi l'uno dall'altro e che trovano semmai come unico ponte unico punto di contatto questo della retorica dell'appartenenza perché c'è un desiderio fortissimo da parte di entrambi una cosa piuttosto evidente a partecipare ad esserci in questa cosiddetta first global call prima chiamata globale che diciamo degli anni cinquanta dell'ottocento comincia a delinearsi e l'altra cosa che mi ha sorpreso appunto questo ricentramento sulla questione d'oriente perché appunto parlare di questione d'oriente è naturale che ci riporta ad occidente perché la questione d'oriente è chiaramente una posizione una situazione che noi possiamo osservare ben piantati con i piedi in occidente e quindi insomma si potrebbe parlare magari di disordini in Europa in questo periodo perché in termini di effetti poi la questione balcanica la questione d'oriente determina una serie di riverberi sulla geopolitica europea non solo di questo periodo e diciamo è interessante anche il punto di partenza di questa narrazione che è nassa deciso nel 1856 perché nel 1856 si colloca questa più volte enunciata partecipazione dell'impero ottomano alla discorso internazionalistico europeo in realtà di questo non si può parlare perché andano a guardare il trattato del 30 marzo del 1856 è chiaro e non lo dico io ma lo dicono le fonti di diritto internazionale dell'Ottocento mi riferisco in particolar modo a Roland Jacquemin per esempio evidenziano come si sia trattato di un capolavoro dell'arte diplomatica perché ci sono una serie di miracoli di sfumature della scrittura diplomatica che creano poi illusione della partecipazione che sarà poi la stessa illusione che porterà l'impero ottomano come diceva giustamente Enas a pestare più volti i piedi per ricordare a tutti che dal 1856 l'impero c'è nel discorso giuridico internazionale e questo conferma del fatto che forse non c'è mai stato però la centralità del 1956 resta perché il 1956 pone in questa necessità di portare dentro perché ovviamente si tratta di una rivitalità del commercio internazionale si apre appunto anche alla Cina alla Siam alla Persia al Giappone all'impero ottomano quindi c'è la necessità di aprire e poi ci si trova invece a dover fare i conti con una chiusura dello spazio europeo e dello spazio giuridico europeo cioè del linguaggio che è il linguaggio comune che in questo spazio si condivide perché un attimo prima il diritto internazionale che è stato più volte citato da Enas c'era il diritto pubblico europeo e quegli stessi manuali che Enas citava sono dei manuali che hanno come titolo bello chiaro diritto internazionale europeo e americano quindi diciamo per quanto ci siano delle spinte universalizzanti in realtà il diritto di quel periodo è un diritto ancora fortemente europeo quindi fortemente eurocentrico che fanno gli internazionalisti di quel tempo cercano di stravolgere un po' quindi sono portati a reimmaginare questo questo diritto pubblico europeo e parlando di diritto internazionale sono costretti a dargli un nuovo paradigma fondante il paradigma fondante diventa quello della civiltà quindi si dice solo i paesi civili possono partecipare a questo discorso internazionale e non diceva fossero anche gli stati cristiani allora qui c'è un altro grande problema che mi salta gli occhi dalla lettura del pepare di Enas c'è una grande assenza noi non dobbiamo dimenticare che una delle ragioni dell'isolamento dell'impero ottomano è la difficoltà anche da parte degli internazionalisti di trovare una chiave per portare l'impero ottomano dentro questo discorso era la fede la sharia la sharia c'è di fatto non possiamo far finta che non ci sia o che non ci sia mai stata era di fatto un problema ed era anche piuttosto ingombrante e determinava poi di fatto questi grandi questi signori questi intellettuali del tempo a fare uno sforzo in più uno sforzo creativo per cercare di superare questo limite che era un limite oggettivo nella definizione di un linguaggio comune e quindi qui è interessante e la trovo ottima l'intuizione della guardare la diplomazia perché la diplomazia potrebbe essere la via per in qualche modo trovare questo punto di contatto con non poco sforzo da parte dell'impero ottomano perché si tratta di imparare un linguaggio nel 56 che è appunto una data centrale andando a vedere gli atti io non so se ne ho saputo modo di farlo però gli atti della trattato che portano poi alla firma del trattato è imbarazzante l'atteggiamento dei diplomatici dei pleni potenziali dei pascià ottomani perché loro non sono in grado di gestire in teoria dovrebbero avere un indirizzo non sono in grado di gestire lì per lì le situazioni perché si rendono conto che il linguaggio diplomatico il linguaggio della diplomazia ottocentesca europea è un linguaggio che loro non hanno tra le mani e quindi sono costretti a rinviare più sedute quindi si rinvia la seduta successiva per aggiornamento quindi a riferire e poi reintervenire non vi nascondo quanto sia è ugualmente imbarazzante la scarsa voce che hanno i pleni potenziali sardi lo stesso Cavour parla una volta e neanche non gli danno neanche particolare attenzione perché perché a figurarsi se il regno di Sardegna può avere voce in capitolo in un momento di costruzione della pace dell'ordine dell'Europa come poteva essere quello e considerando che vi partecipa anche per esempio la Prussia che non aveva mosso un soldato nella guerra di Crimea quindi c'era un interesse ad esserci assolutamente ma certo il regno di Sardegna non era la Prussia evidentemente l'impero ottomano era fuori per altre ragioni e quindi la diplomazia dicevo può essere la via in questo senso in questa direzione per leggere e potrebbe essere effettivamente interessante qui utilizzare un confronto tra precari insomma un confronto tra poveri quale appunto questo delle due figure che Enas ha scelto e che diciamo mi viene da chiedergli perché proprio diciamo queste due figure quali sono appunto il regno di Sardegna e l'impero ottomano periferiche per descrivere un una diciamo una via un canale come appunto quello diplomatico così interessante e poi tra l'altro parlando di di similarità diciamo è difficoltà a a immaginare ancora delle similitudini tra impero ottomano e il regno di Sardegna considerando anche il punto di partenza dicevo che comunque il regno di Sardegna per quanto sia diciamo periferico marginale in questo discorso se non altra dalla sua quella di parlare il linguaggio giuridico europeo quindi in qualche modo è dentro questo discorso e può ambirvi a ragion veduta quindi io chiuderei diciamo il mio contributo con evidenziando diciamo delle criticità che sono più o meno quelle che ho già evidenziato e con degli inviti dopo aver fatto i complimenti a Enas per essersi addentrato in una tema che è estremamente complesso per la quantità di punti d'osservazione che purtroppo necessita intanto come criticità e anzi no diciamo prima le cose che mi sono piaciute di più quindi diciamo i punti di forza e innanzitutto la bontà della prospettiva cioè il fatto di adottare una prospettiva globale in questo momento storico in cui si parla di globalistori di tentativo di riscrittura della storia partendo da prospettive da punti di vista altri diversi estremamente stimolante estremamente difficile ma anche estremamente vincente quindi onore al merito ancora per la scelta della delle fonti di spacci e i spacci come genere letterario sono molto interessanti anche se sono pieni di retorica anche perché evidentemente di criticità ma comunque interessante vedere come venga utilizzato questo genere letterario e poi l'altro punto di forza è l'interdisciplinarietà ora mi permette di tirare un po' d'acqua al mio mulino nel suo elenco non c'era la storia del diritto internazionale quindi mi preme insomma dichiararle che anche la la storia del diritto internazionale direi che meriterebbe una certa attenzione anche perché gli studi su queste tematiche ci sono sono diversi sono piuttosto nella nella direzione che lei stesso ha deciso di intraprendere quindi si tratta di letture in chiave globale per quanto riguarda gli inviti ecco io non so appunto non avendo letto la tesi ma solo il paper non so poi ovviamente nella sintesi quando si perde sempre qualcosa strada facendo quindi non so esattamente quanto spazio ha dedicato però da quello che ho letto io inviteria a restituire una maggiore consapevolezza su questi punti di partenza cioè questo quello dell'impero ottomano e quello del regno di Sardegna trattandosi evidentemente di due realtà completamente differenti e ovviamente dando spazio al discorso della della sciaria perché a mio avviso è un discorso che non può assolutamente essere scavalcato come se non esistesse un'attenzione tra l'altro direi alla prospettiva globale scusi al metodo comparativo alla prospettiva comparativistica perché se quello che intende fare non è una storia globale delle relazioni italo-ottomane tra 56 e 71 ma una rilettura appunto della questione d'Oriente attraverso i dispacci diplomatici eccetera eccetera a quel punto bisogna avere bisogna saper maneggiare con una certa agilità e consapevolezza gli strumenti della comparazione perché si tratta evidentemente di due contesti lo dicevo prima completamente diversi tra l'altro un comparativista quale Fabio Ruggio direbbe che quello dell'impero ottomano è chiaramente un contesto diciamo quasi intransigente per alcuni aspetti che riguardano il primo problema il problema è che l'impero ottomano è un impero grande plurisocolare con grande tradizione ma ammalato e gli occidentali in realtà non si mettono d'accordo su come trattare l'impero ottomano e per questo c'è tutta la guerra di Crimea c'è un problema che la Russia l'impero ozerista dall'altra parte lo considera altrettanto debole vuole mangiarsi dei pezzi e allora dicono no non te lo puoi mangiare perché perché gli occidentali come dire considerano questo grande impero un buffer state uno stato cuscinetto per non fare al solito come dire far arrivare l'impero ozerista in Europa se mai c'è una questione d'Oriente mi spiace autocitarmi ma lo faccio ugualmente deve essere messa in relazione al grande gioco che si sta svolgendo nell'Asia centrale e cos'è come dire in quegli stessi anni e che cos'è il punto di come dire di collegamento tra i due è l'ascesa dell'impero britannico dell'impero coloniale britannico verso come dire verso Oriente ovviamente e quindi anche il centro Asia e quindi tutte le guerre afghane e quindi le guerre indiane e così via e poi ovviamente verso i territori dell'impero ottomano ovviamente tipi di imperialismo diversi per carità tipi di espansione anche economica diversi ma di questo si tratta io non vedo nessuna forma di parità in quel secolo che poi finirà con la prima guerra mondiale e quindi con la spartizione dell'impero ottomano quanto mai invece un lento e progressivo come dire mettere via cioè scacciare l'impero ottomano dall'Europa dalle penisole balcaniche e così via fino a diciamo controllarlo e a restringerlo nei confini asiatici quindi questa è la prima questione che vorrei porre quindi la seconda scusate la prima è l'unità di comparazione che mi sembrano abbastanza incomparabili la seconda è la come dire la prospettiva globale che sembra essere una prospettiva veramente astratta fuori dal tempo dal contesto storico delle relazioni internazionali dell'ottocento che è veramente il secolo inglese il secolo della Gran Bretagna la cosa però se Ilaria mi dà un altro minuto di tempo si diciamo pregherei tutti di essere molto concisi l'aspetto l'aspetto interessante certamente invece è quello della storia culturale dei diplomatici la storia culturale diplomatica questo è molto interessante è fatta attraverso gli spacci e a quel punto però non tempo non mi soffermo e questo perché non parlare semplicemente delle relazioni italo-ottomane per quello che sono cioè le relazioni dei corpi diplomatici e il cambiamento della lingua dei appunto dei diplomatici attraverso i dispacci però l'ultimissima considerazione non sia troppo come dire subordinato alle fonti nel senso che deve anche dare una lettura di questi dispacci che non sia che non li prenda troppo sul serio ecco perché anche linguaggio dei diplomatici potrebbe nascondere e sicuramente nasconderà pretesi ambizioni debolezze e quanto altro e che quindi non va come dire preso ma guarda questi ottomani vogliono fare così sono quasi come gli europei e ce farei anche su questo una tara grazie e adesso quindi simon levis giorgia del zanna francesco caccamo e anche gia cagliotti sarà velocemente prenotata pregherai sì tutti di essere il più sintetici possibili che ringrazio io trovo che questa sia una ricerca importante e chiaramente ambiziosa evidentemente come è stato già sottolineato la diversità dei due casi esaminati comporta una sfida notevole le loro caratteristiche diverse le loro diverse perifericità e via discorrendo ma volevo chiedere ulteriori delucidazioni al dottor Ennas sulle sue fonti e sulla sua ricerca perché noi ne abbiamo letto solo un piccolo estratto mi chiedo se nell'analisi di queste fonti diplomatiche e dietro all'analisi di queste fonti diplomatiche lei ha preso in considerazione anche diciamo uno studio in qualche modo prosopografico di questi diplomatici dei loro percorsi delle loro formazione della loro biografia intellettuale e politica soprattutto o appunto come gruppo o attraverso alcuni casi di studio perché per arrivare a diciamo decodificare il linguaggio e la visione di questi personaggi è chiaro che uno studio anche mi sembra che uno studio che riguarda la loro formazione sia fondamentale lei ha l'uso a una serie di letture comuni ma forse mi chiedo appunto se nel resto del suo lavoro esiste poi una verifica precisa calata nei contesti biografici specifici di alcuni di questi personaggi per capire meglio poi mi chiedo visto che il suo lavoro ha l'ambizione di essere un lavoro di storia globale se è sufficiente fare un se si può fare una storia globale solo a partire dalle fonti diplomatiche lei ha parlato di fonti complete e perfette ma credo che sia compito dello storico soprattutto aumentare il più possibile la varietà di fonti che si utilizzano non bisogna sceglierne alcune ma in un certo senso può essere utile andare in direzioni molto diverse in particolare visto che lei vuole fare anche una critica dell'idea di questione orientale di civiltà orientale eccetera eccetera credo che non potrebbe non tenere in considerazione il contributo di altri gruppi e produttori di immagine come giornalisti storici geografi archeologi letterati non dico tutti ma evidentemente queste nozioni di cui lei si occupa e che vuole in qualche modo decostruire sul piano storico hanno molti soggetti produttori e quindi la verifica dei luoghi di produzione e dei ruoli diciamo di generazione di questo immaginario anche solo per misurarne poi la portata e l'influenza sul corpo diplomatico credo andrebbe abbastanza articolato quindi le chiedo se questo in parte avviene e è avvenuto nelle sue ricerche se ci rifacciamo anche solo a Said è chiaro che i luoghi di generazione dell'orientalismo sono molto articolati ecco Giorgio Delzanna prego sì Giorgio Delzanna Università Cattolica ma io diciamo guardo con interesse ovviamente e con favore il fatto di essersi occupato in una ricerca storica dell'impero ottomano perché effettivamente è un tema ancora diciamo un ambito poco battuto diciamo dalla contemporaneistica italiana però mi associo anche a alcuni delle osservazioni dei rilievi che faceva anche Giana Augusti e altri è un saggio appunto di storia culturale sicuramente interessante che dice appunto come questo mondo e questo sono d'accordo con Ennas diciamo il mondo ottomano appunto si inserisce nel contesto internazionale e quindi non è qualcosa di altro diciamo dall'Europa in questo senso quindi partecipe appunto in quel contesto diciamo di crescente globalizzazione poi che conosce il XIX secolo però ecco la domanda che mi veniva è questa cioè da una parte mi chiedo in fondo appunto la diplomazia è la lingua degli stati ecco ma in fondo voglio dire non c'era bisogno di aspettare la questione d'Oriente perché l'impero ottomano fosse partecipe un po' del sistema delle relazioni con gli stati europei insomma dal Cinquecento in poi praticamente quindi voglio dire non c'è in fondo la diplomazia è una cultura comune perché è anche una cultura statuale che è molto forte nella tradizione ottomana che in fondo questo forse è anche qualcosa mi chiedo se non sia da verificare sul più lungo periodo ovviamente è chiaro che appunto il diritto internazionale è diventato un terreno tipicamente europeo che diventa anche globale nel corso del XIX secolo però forse c'è anche ci sono anche degli elementi di più lungo periodo che su me restano e l'altro aspetto che non è stato assolutamente toccato ma volevo chiederle se per caso un po' con lei se ne è occupato cioè mi chiedevo un po' il ruolo dei cristiani perché nella diplomazia ottomana la componente cristiana è stata una componente molto importante penso prima i greci poi soprattutto gli armeni e in fondo l'elite cristiana ottomana era un'elite che condivideva ampiamente una cultura che era la cultura anche dell'elite diciamo del Mediterraneo occidentale insomma dell'Europa quindi c'era come dire mi sembra anche che era un inserirsi dentro una rete di relazioni assolutamente che appunto ecco in cui un ruolo forse di cristiani c'è in questo senso perché avevano intrattenevano da generazioni delle relazioni erano presenze erano anche reti chiaramente quindi in questo senso anche mi sembra che questa condivisione diciamo di una comune cultura diciamo moderna chiamiamolo così mi sembra un dato anche abbastanza tipico insomma ecco l'ultima cosa anche io ecco qualche dubbio sul discorso della storia globale nel senso cioè ho qualche perplessità sul fatto che storia globale sia comparazione io credo che sia appunto una ricostruzione di interazioni quindi sarebbe interessante cioè sarebbe una storia globale il fatto di vedere quanto la cultura diplomatica ottomana e europea si è intrecciata cioè quanto si sono contaminate la comparazione è una comparazione non è esattamente secondo me ecco una storia in senso di di storia ecco grazie quindi Francesco Caccamo e poi Gia Cagliotti e poi deriviamo la parola allora buongiorno spero che mi vedete e mi sentite sono Francesco Caccamo dell'Università di Chieti io ho seguito l'intervento con interesse perché mi sono occupato piuttosto di sfuggita di questo tema e quindi avevo alcune curiosità la prima lei Ennas è stato diciamo cita i documenti è stato negli archivi ottomani se non so se ho capito bene ecco volevo capire lei però conosce di sicuro anche questa pubblicazione questi due volumi pubblicati a cura di Sinan Kuneralt sui documenti diplomatici ottomani sull'unificazione italiana ero curioso proprio era una curiosità mia di sapere se ci sono delle fondamentali differenze tra quello che ha reperito in archivio e questa pubblicazione piuttosto abbastanza corposa ecco sono due due tomi proprio esattamente relativi al periodo del quale lei si è occupato ecco quindi c'era questo aspetto tecnico poi forse rispetto agli altri interventi a me interessava proprio più che questa che una prospettiva globale interessava proprio quella l'aspetto dei rapporti italottomani e indubbiamente concordo sul fatto che siano elementi quasi incomparabili su quello che è stato detto da molti secondo me però proprio da questa differenza radicale di prospettive che forse nel suo intervento Ennars non era tanto in evidenza e invece poi un po' lo ha detto durante la discussione lo ha detto meglio durante la discussione ecco a me sembra che siano due soggetti che si pongono su posizioni estremamente quasi antitetiche proprio il regno di Sardegna e poi il regno d'Italia in questo periodo sono una piccola media potenza in ascesa che si afferma sulla base perlomeno pretende una legittimazione sulla base del principio di nazionalità l'impero ottomano invece è una grande potenza in decadenza che cerca il più possibile di mantenere uno status quo assolutamente contrario al principio di nazionalità quindi però mi sembra che proprio da questa incomparabilità se vogliamo emergano degli elementi stimolanti che possono far riflettere ecco quindi da questo punto di vista apprezzo la sua ricerca e poi volevo fare un'osservazione semplicemente si è parlato delle differenze religiose e volevo chiedere a Ennas se ha potuto riscontrare invece quello che ho riscontrato io in questa documentazione ottomana almeno io in quella pubblicata ovviamente e cioè che paradossalmente questo aspetto religioso nel linguaggio diplomatico non emerge quasi per niente perché i diplomatici molto interessanti come i diplomatici ottomani si pongano in una prospettiva estremamente laica secolare questa è una sorpresa forse che può emergere da questi documenti se non teniamo però in considerazione che parliamo dell'epoca del Tanzimat dell'epoca in cui alla guida dell'impero ottomano ci sono dei personaggi che si ispirano all'Europa alla cultura europea come Alipas Fuat Pasha e così via ma perfino ma pure i rappresentanti all'interno i rappresentanti ottomani nel regno di Sardegna in Italia in definitiva sono degli ottomani ecco degli ottomani riformisti anche loro non sono dei musulmani direi nel senso radicali certamente il primo è Rustem Bay un levantino di origine italiana il secondo è Fotiades Bay un greco quindi il problema religioso le differenze religiose non emergono nel secondo me nessuna misura negli spazi diplomatici ecco quindi ci sono alcuni aspetti concreti che vanno un po' tenuti in considerazione quando poi andiamo a valutare la dinamica di questi rapporti di talottomani in questo periodo mi pare ero curioso di sapere di avere il suo feedback su queste osservazioni grazie Gia per concludere e poi lasciamo se no ovviamente anche se avrei veramente tantissime domande da farle il tema ovviamente appassionale interessante appassionante dunque innanzitutto alcune tre domande che sono proprio di curiosità diciamo la prima è quanti sono questi dispacci diciamo in termini proprio quantitativi diciamo questo suo lavoro su quanto materiale diciamo si è basato quindi quanto sono diciamo che la quantità espia evidentemente anche dell'intensità delle relazioni tra i due soggetti diciamo la seconda è una questione relativa alla lingua cioè immagino che si tratti tutti i dispacci in francese però immagino anche che ci sia poi invece una documentazione di corredo aggiuntiva di preparazione che potrebbe essere in turco ottomano ma anche qui insomma è una quanto maneggiano il francese anche quanto lo maneggiano bene il francese questi diplomatici ottomani la terza è una questione di contenuto cioè nel senso che lei però mi rendo conto che sono troppe domande magari poi lei non è obbligato a rispondere perché ci vorrebbe forse troppo tempo però magari questa discussione le può essere utile per chiarire ulteriormente quello che sta scrivendo e poi magari la possiamo rinviare anche ad altri ad altri momenti ahimè appunto la forma online non ci consente di parlare poi nei corridori però in realtà come dire lei ci ha parlato di questo come dire di questa sorta di occidentalizzazione della diplomazia ottomana però tornando appunto alla domanda che faceva anche Giorgio Delzanna quanto in questo scambio diciamo in questo scambio c'è di trasferimento di circolazione quindi che cosa succede nella diplomazia sarda dal contatto con gli ottomani c'è in qualche modo come dire e quindi lì mi chiedevo se non fosse il caso se non fosse stato il caso anche di fare un po' di comparazione tra per esempio il caso la diplomazia sarda anche con altri con altri soggetti perché questo li avrebbe fatto vedere diciamo comparativamente che cosa circola che cosa si trasferisce un'osservazione invece i miei colleghi soprattutto Eliana Augusti ha sottolineato questo problema della diversità che mi trovo evidentemente d'accordo ne solleverei anche un altro che è quello dell'asimmetria il regno di Sardegna ha due capitolazioni se io non ricordo male con l'impero ottomano una del 1740 e un'altra del 1825 come sappiamo queste benedette capitolazioni creano diciamo una situazione di fortissima simmetria gli occidentali sono dentro l'impero ottomano godono dentro l'impero ottomano di giurisdizione di giurisdizione separata e questo inevitabilmente diciamo impatta ecco su queste errazioni quindi siccome sono sicurissima che questo elemento è presente diciamo nel suo lavoro la mia domanda è quanto diciamo questa faccenda dell'extraterritorialità della giurisdizionale incida poi su queste su queste relazioni avrei altre domande ma mi fermo qui Dottor Ennas è stato subissato di domande alle quali credo non potrà per varie ragioni rispondere tutta ma qualche minuto lo abbiamo scelga lei magari quelle che comportano una riflessione del suo lavoro più profondo a cui ha bisogno insomma di pensarci e quelle che invece risolvono curiosità più immediate forse più facilmente a cui può dare più facilmente una risposta quindi le lascio la parola un'altra decina di minuti sicuramente ce l'ha ecco grazie mille grazie a tutti per il vostro preciso contributo sono tutti ottimi punti di riflessione su cui non mancherò di riflettere allora proverò a rispondere a tutti il più possibile magari partendo dall'ultima allora la quantità dei documenti è assolutamente rimarchevole anche vista la ripetitività della documentazione ne ho dovuti leggere tantissimi molti dei quali poi non ho utilizzato quindi attualmente è ancora diciamo ne sto ancora aggiungendo alcuni quindi un numero preciso non c'è però diciamo dalla quantità sicuramente si può percepire un'intensità estremamente rilevante nelle relazioni tra il regno di Sardegna e anche tutte le altre entità statali della penisola italiana con l'impero ottomano gli ottomani tendenzialmente erano spesso dei grafomani quindi grazie a Dio per gli storici questa è una manna l'intensità dei rapporti era sicuramente rimarchevole per quanto riguarda la lingua la documentazione è sì prevalentemente in francese anche perché tra i 50 tra gli anni 50 e gli anni 60 essa era prevalentemente in francese in quanto è solo negli anni 70 che poi c'è una riturchizzazione della della diplomazia ottomana a livello di documenti ciò nonostante io comunque ho utilizzato anche i documenti in turco ottomano soprattutto per esempio i sigil i curriculum diciamo dei diplomatici ottomani che sono in turco ottomano che non sono stati in francese per quelli diciamo il turco ottomano è stato assolutamente fondamentale poi ci sono anche diciamo piccoli estratti di altre opere di autori maggiori che hanno influenzato profondamente la diplomazia ottomana ecco il francese lo maneggiavano in maniera ottima ovviamente con degli adattamenti a volte diciamo dei francesi devono degli errori però il livello di francese di alcuni diplomatici come Rustem Pachat o Quad Pachat e Minali Pachat è eccelso sia la loro calligrafia che il loro francese per quanto riguarda lo scambio che c'è sicuramente una cosa che io ho evidenziato nella tesi sicuramente a livello di idee ma non tanto le idee che i sardo italiani prendono dagli ottomani ma più che altro in che modo l'esistenza degli ottomani e la loro situazione influenzi lo sviluppo delle idee dei diplomatici italiani o anche solo degli ideologi come anche Cesare Balbo o Mazzini stesso la situazione dell'impero ottomano e la conduzione delle reforme nell'impero ottomano influenzano indubitabilmente il pensiero di numerosi intellettuali italiani e anche di diplomatici che poi sono a loro volta storici geografi come per esempio Cesare Durando nipote di Giacomo Durando il quale scrisse poi una biografia dello zio riportando anche sui documenti diplomatici dopo che lui stesso si era fatto un'idea sul campo di che cos'era l'impero ottomano creando anche la sua dottrina personale della diplomazia per quanto riguarda l'assimmetria sicuramente essa impattava non c'è dubbio che diciamo il regime capitolare impattasse sulle relazioni tra i due stati non è pur di dubbio ma allo stesso tempo una delle cose più interessanti del rapportare due potenze analizzare i rapporti tra queste due potenze è anche il fatto che il regno di Sardegna e poi il regno d'Italia non era una grande potenza come la Gran Bretagna o la Francia quindi l'impero ottomano aveva una relazione più paritetica con gli italiani in ogni caso nonostante il regime capitolare tant'è che in diverse occasioni gli ottomani riescono a imporre agli italiani o ai sardo italiani di rispettare le regole del diritto internazionale ovviamente con l'ausilio dei francesi o degli inglesi ma comunque riescono a imporre a volte diciamo il rispetto della legge e non solo del diritto capitolare per quanto riguarda il ruolo dei cristiani sicuramente rimarchevole sia nel per quanto riguarda il mio lavoro in quanto diplomatici assolutamente abili come Rustem Francesco Rustem Pascià erano cristiani fondamentalmente tra gli anni 50 e 60 un buon numero di loro se non la maggioranza erano ancora cristiani e dagli anni 70 in poi che i musulmani diventano un numero sempre crescente nella diplomazia ottomana ovviamente sempre tenendo conto un gran numero di cristiani ortodossi per quanto riguarda il dubbio sulla storia globale se sia o meno comparazione la mia risposta è che più che altro è difficile dire cosa sia la storia globale quindi ognuno diciamo all'istituto europeo si discute continuamente su cosa sia storia internazionale sia globale nel mio caso io mi limito al fatto che si osserva allo sviluppo delle relazioni italo-ottomani in una prospettiva il più globale possibile cioè attraverso il sistema dei congressi in cui si parlava per esempio della questione marocchina sia italiani che ottomani interagivano diciamo in un contesto globale quindi probabilmente servirebbe più tempo per approfondire ulteriormente l'idea comunque in genere è che è abbastanza difficile dire cosa sia effettivamente la storia globale ecco per quanto riguarda i volumi di Sinan Kuhner alp li conosco ovviamente li ho letti e li ho utilizzati abbondantemente nella mia ricerca in quanto sono dei testi di grandissima qualità e estremamente utili per chiunque si avvicina all'argomento ci sono delle differenze col mio nel senso che io utilizzo anche documenti che non sono riportati nei nei volumi di Sinan Kuhner alp come per esempio i documenti di Cesare Durando quindi diciamo ho aggiunto ho preso da questi da queste fonti ovviamente sempre verificando di mia in prima persona questi documenti però trovandosi anche una roba assolutamente utile sono indubbiamente molto differenti l'entità appunto l'impero ottomano il regno d'Italia il regno di Sardegna il regno d'Italia ma sul fatto che non siano comparabili ho dei dubbi nel senso che a seconda della prospettiva che si prende sono comparabili per quanto riguarda la questione del laicismo nei documenti ottomani sì effettivamente è vero cioè la questione del diritto sciaraitico nei documenti ottomani del periodo è più una questione è un problema per i diplomatici ottomani come Fuad Pasha e Eminali Pasha i quali si chiedono sempre come è possibile riformare in un senso come volevano diciamo gli europei la società il diritto ottomano non mantenendo l'impianto sciaraitico che è un po' una cosa che verrà è una questione che verrà analizzata da Jefdet Pasha il grande storico e autore di riforma ottomano il quale creerà una sintesi di laicismo e diritto sciaraitico con la sua maggialla quindi ovviamente il discorso è molto più complesso è così però diciamo è vero il discorso sciaraitico c'è ovviamente però diciamo va contestualizzato ovviamente nel suo rapportarsi poi col diritto europeo come viene introdotto dai riformatori ottomani allora venendo a professor Sula per quanto riguarda le fonti appunto come ho detto ho usato sia fonti ho usato soprattutto i dispacci diplomatici soprattutto in lingua francese ma anche dispacci in lingua ottomana e testi scritti da da sardo piemontesi come Cesare Balbo Cesare Durando Giacomo Durando quindi ho utili documenti in e i loro cioè poi anche i loro dispacci alcuni scritti in francese soprattutto in italiano e sono partito comunque da un'analisi che forse dire filologica è eccessivo però comunque partendo dal mio ragionamento parteva molto spesso dal linguaggio utilizzato che le similarità del linguaggio usato dagli italiani e dagli ottomani per analizzare poi i contenuti che questo linguaggio esprimeva e comunque volevo dire sì anche le biografie sono ho approfondito molto anche il contesto delle biografie dei singoli diplomatici di tutti gli attori presi in considerazione sia la loro educazione il loro partito politico giocano tutti un ruolo nel loro rapportarsi con gli ottomani e viceversa sulla questione se è possibile fare una storia globale solo a partire da fonti diplomatiche beh ecco a parte che appunto curi come Cesare Durando era anche uno storico per esempio oltre che un diplomatico ma a parte quello è proprio quello che sto cercando di vedere se è possibile fare una storia globale partendo dai documenti diplomatici e usando prevalentemente quelli ma non solo poi spero di non dimenticare nessuno per arrivare alla professoressa De Gregorio allora sì ho già parlato della questione della dell'unità di comparazione del fatto che a mio parere essi sono comparabili ovviamente prendendo le dovute precauzioni però appunto sono così diversi ma allo stesso tempo come dire è una questione anche di punto di vista nel senso che l'impero ottomano degli anni 50 e 60 per quanto dal punto di vista dello zar Nicola I fosse un impero il grande malato d'Europa dal punto di vista degli ottomani il loro era un nuovo impero era l'impero di Mahmoud II era l'impero di Abdul Mejiz I di Abdul Aziz era un impero moderno non più medievale come loro stessi definivano l'impero ottomano precedente quindi dal loro punto di vista gli ottomani non erano malati loro dovevano lottare contro il pregiudizio razziale culturale degli europei che si coalizzavano contro di loro nella gestione della questione d'Oriente ed è qui che entra la questione d'Oriente la questione d'Oriente in realtà non è un problema ottomano il problema ottomano è il fatto che gli europei continuassero a giocare a scacchi sul loro territorio però utilizzandoli nelle loro controversie è per espandersi è in questo che entra la questione d'Oriente è il grande gioco ovviamente per quanto riguarda la prospettiva globale è troppo astrata io ho cercato nella tesi di limitarla di dare delle coordinate sia temporali che geografiche il più preciso possibile ovviamente cercando anche sempre di fare molta attenzione alle fonti e considerando sempre il fatto che sono fonti diplomatiche sono fonti di parte o comunque però alcune di queste non venivano scritte per essere lette da altri erano scritte dai diplomatici ai loro ministeri e quindi erano anche scritte in un'ottica di questo documento confidenziale non deve essere letto da altri che da noi quindi diciamo sono fonti complesse sicuramente che io ho cercato di analizzare in un'ottica comunque facendo molta attenzione ecco quello sì spero di aver risposto a tutti e mi scuso se non sono stato in grado no no è stato subissato di domande ci mancherebbe benissimo allora arriviamo all'ultimo intervento quello di Francesco Cutalo Francesco che conosco molto bene perché dopo essersi laureato a Firenze fa il dottorato alla scuola normale e quindi siamo siamo sotto lo stesso tetto Francesco ci presenta un intervento che dal titolo il nemico nelle testimonianze dei soldati italiani sul fronte austriaco nel 1915-1918 e il discuss come anticipato in precedenza non è Marco Mondini come segnalato nel programma ma è Simone Vissuola Francesco a te la parola buonasera grazie a tutti per essere intervenuti io ho preparato un powerpoint attraverso per seguire meglio l'intervento vediamo se riuscite a a vederlo non so ecco comunque io lo vedo benissimo penso che quindi sia tutto che sì credo bene allora io nel mio intervento andrò a delineare brevemente l'oggetto della ricerca la storiografia di riferimento e poi andrò a analizzare la struttura della tesi gli argomenti e come le fonti e la metodologia con cui ho trattato le fonti oggetto appunto della tesi allora l'oggetto della mia ricerca sono mi sa che mi sa ah ok no avevo avuto un problema scusate l'oggetto della ricerca sono le mentalità e i comportamenti dei soldati italiani impegnati sul fronte italo-austriaco nei confronti del nemico ecco è un tema quello dell'attitudine dei soldati nei confronti dei combattenti ma anche nei modi di rappresentare il nemico quindi un approccio più di storia della mentalità che ha avuto un ruolo importante nella storiografia sul primo conflitto mondiale che ha diciamo raccolto soprattutto interesse in ambito francese e anglosassone abbracciando vari filoni di ricerca che vanno dagli studi su culturali di storia dell'intellettualità appunto più incentrati sulla propaganda o comunque su quelle rappresentazioni circolanti nell'opinione pubblica ma anche negli studi sociali sull'esperienza bellica in particolare ho in mente i grandi punti di finimento sono Eric Lidd e Tony Ashworth che sono studi comunque risalenti a 40 anni fa ma che comunque ci dicono molto di queste insomma di storia dell'esperienza e infine anche gli studi sulle testimonianze che appunto poi sono anche la fonte della mia ricerca sicuramente un punto nodale di questo mio studio è stato il dibattito tra consenso e coercizione che si è avuto soprattutto in Francia che ha visto porsi da una parte gli storici del consenso di solito identificati con l'istorial della ganguer de Peron e i storici del dissenso del creed che appunto oltre a divitesi sul fatto sui motivi della tenuta degli eserciti con i primi che portavano a fondamento il consenso e anche l'odio per il nemico e gli altri che invece portavano avanti la coercizione e lo spirito di corpo dando un ruolo marginale appunto a questioni come consenso e propaganda c'è stata una divisione tra questi due ambienti anche sul ruolo delle testimonianze su questa fonte con i primi che hanno appunto lamentato questa dittatura delle testimonianze come fonte che avrebbe portato a sottostimare elementi come la violenza bellica facendo prevalere nella narrazione dell'esperienza dei soldati comunque con paradigma vittimario e se si viene all'ambiente italiano diciamo che questo tema le rappresentazioni non ha un vero e proprio è stato toccato in vari studi di ambito generale sull'esperienza bellica per lo più risalente agli anni 90 mentre però appunto senza scavare a fondo il fenomeno mentre sono state studiate le rappresentazioni del nemico però anche qui con uno studio soprattutto di storia culturale di storia dell'intellettualità guardando meno ad esempio a proprio i mezzi della propaganda i mezzi attraverso cui appunto diffondere questa immagine qual è l'obiettivo della della ricerca lo scopo della ricerca è appunto ricostruire questi atteggiamenti dei soldati italiani diciamo andando a individuare delle tendenze di fondo e ricostruendo i fattori esogeni ovvero la campagna antiteresca e la propaganda ma anche il contesto del fronte e le misure dei comandi e quei fattori endogeni ovvero la posizione socioculturale dei testimoni considerati le relazioni interpezionali il ruolo rivestito nelle istituzioni militari che condizionarono appunto in qualche misura questi testimoni indagati allora come è stata organizzata la tesi ora a grandi linee la tesi si è divisa in sei capitoli che affrontano divise a loro volta su due sezioni il devo dire che rispetto al paper che ho inviato sono passati dei mesi e quindi ho sviluppato la ricerca e ho purtroppo lavorando ho fatto delle modifiche che qui comunque presento ecco nel le due sezioni rispondono a due diversi obiettivi da una parte la prima sezione indaga le rappresentazioni pubbliche del nemico ovvero quelle della propaganda ma anche circolanti nell'opinione pubblica perché è la mia intenzione comunque fornire un quadro completo delle rappresentazioni del nemico circolanti che in qualche modo i soldati che poi sono andato ad esaminare sono venuti in contatto ecco ho cercato qui al di là appunto di usare fonti note come pubblicazioni giornali giornali di sinistra e quant'altro cercare di andare a individuare quelle fonti che in qualche misura potevano aver avuto una diffusione maggiore tra quelli che diciamo sono stati poi nell'analisi del generale gli attori principali ovvero i soldati e quindi ho guardato ad esempio come fonti come ad esempio con particolare attenzione fonti come le cartoline che che appunto spesso diffuse gratuitamente circolavano di mano in mano veicolando allo stesso tempo un messaggio e quindi non solo la ricostruzione e la rappresentazione di questa immagine di come evolve nel tempo ma anche il mezzo che viene scelto per cercare di far arrivare da parte dei comandi dei soggetti produttori che non sono sempre comandi le informazioni e appunto queste rappresentazioni negative dell'avversario dell'avversario e inoltre si è anche cercato di valutare la tiratura di questi materiali considerati per capire quali rappresentazioni poterano avere una diffusione maggiore diffusione che però non corrisponde a una ricezione naturalmente non è ovvio questa c'è una conseguenzialità ovvia però per appunto capire meglio quali messaggi furono prescelti e come questi ebbero un'evoluzione nel corso del conflitto ecco il primo capitolo indaga l'ambiente del fronte interno e le immagini diffuse dal discorso dominante questo è un primo concetto che è utile spiegare di solito nell'analisi sul primo conflitto mondiale viene utilizzato il concetto di cultura di guerra che però è parso troppo perfasivo cioè già metteva comunque una condivisione da parte della maggioranza della popolazione o comunque dell'élite e allora è parso più corretto usare il termine utilizzato in ambito francese da parte naturalmente della stereografia francese di discorso dominante che permette da una parte di spiegare questa diffusione del discorso patriottico però senza presupporre una sua interiorizzazione da parte della maggioranza della popolazione mentre il termine propaganda è parso non sufficiente limitante perché comunque prevede comunque un messaggio manipolatorio non sempre diciamo non spontaneo comunque quindi e da lì sono andati a analizzare i vari messaggi dei soggetti produttori l'allargamento al fronte interno si spiega col fatto che comunque i soldati prima di essere militari sono civili e quindi entrano in contatto prima di entrare in situazioni militare comunque con delle immagini e comunque quelle immagini continuano allora ad arrivargli tramite ad esempio le stesse cartoline oppure il giornale nella parte successiva sono andato a vedere la figura del nemico nella propaganda rivolta alle truppe e qui oltre a analizzare i giornali di trincea o anche appunto sempre le direttive dei comandi sono andato a vedere anche l'attività dei cappellani delle case del soldato e dei teatri del fronte perché sono appunto soggetti che hanno rivestito un ruolo cardine nella rifusione di un'immagine del nemico tra le truppe e comunque in generale nell'organizzare la propaganda quello che diciamo emerge a mio parere comunque è un'evoluzione sia degli argomenti sia un'evoluzione dei mezzi cioè i mezzi evolvono perché ci si rende conto che e le immagini evolvono perché ci si rende conto che non sono abbastanza efficaci o comunque devono raggiungere una popolazione in larga parte illetterata quindi è un'evoluzione continua nel corso della guerra che si arriverà in sintesi a comunque un'immagine molto più simile a quella che circola all'estero molto basata su un concetto quello dell'atrocity propaganda ovvero le atrocità tedesche spesso riprendendo proprio le atrocità avvenute nel Belgio che vengono elette a emblema della malvacità germanica oppure prendendo queste narrazioni e adattandole in maniera plastica all'ambiente italiano e da lì c'è anche un'evoluzione delle immagini perché si arriverà a fine della guerra con una netta prevalenza di una propaganda per immagini alla portata appunto di una popolazione in larga parte illetterata e comunque più interessata a concetti appunto come la violenza la difesa del focolare domestico rispetto ad altre questioni come possono essere state quelle diciamo della liberazione delle cosiddette terre vidente questa parte poi anticipa quella che è il cuore della tesi che è la sezione dedicata a comportamenti e mentalità dei combattenti che è costituita da quattro capitoli e che si basa appunto su un corpus di circa 150 testimonianze edite e inedite quelle inedite selezionate appunto nell'archivio Trentino e nell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano sono testimoni dall'eterogenea estrazione socioculturale relazionale e gli scritti selezionati scoprono una fascia temporale sufficientemente lunga a fornire un quadro dell'esperienza bellica e dell'evoluzione dei soggetti coinvolti ne sono state analizzate varie tipologie mi preme al di là di alcune che sono spesso utilizzate mi preme sottolineare l'uso delle fotografie ad uso fotografie private dei soldati sono una fonte molto utilizzata come testimonianza nella ricerca francese però nel caso italiano è una fonte molto problematica perché i soldati spesso avevano grossi limiti all'uso delle macchine fotografiche inoltre è un tipo di attività quella della fotografia elitaria perché comunque le macchine hanno un costo tuttavia sono una fonte estremamente interessante perché talora ci rivela ci dà conferma addirittura riscontri a fenomeni letti nelle testimonianze spesso in maniera piuttosto casuale però insomma mi preme a sottolinearlo detto ciò bisogna evidenziare le problematiche anche alla luce che quella che è la polemica avvenuta in Francia che in qualche modo ha avuto un riflesso da noi perché comunque non sono mancati storici che hanno tese a svalutare soprattutto le scritture popolari quelle dei soldati semplici spesso soldati letterati perché effettivamente sono scritture da cui non si può avere una sintesi generale spesso sono estremamente soggettive ed è anche difficile trovare un filo spesso sono stratificate i soldati scadono nell'incoerenza mentre raccontano la loro esperienza e quindi sono delle fonti problematiche e se stesse sono di fatto un oggetto di analisi come ho cercato di intervenire per ammorbidire questi problemi allora intanto appunto ho cercato di fare un'analisi prosopografica dei testimoni considerati cioè la loro posizione socioculturale le appartenenze nell'esegeto il ruolo il grado ricoperto se via via ha ricostruito tutte quelle dinamiche che ne influenzarono gli atteggiamenti come il contesto del fronte italiano cambiamenti cronologici particolari tornanti all'esperienza bellica insomma queste testimonianze analizzate sono state prese come tante scene contestualizzate anche nella relazione non soltanto con il nemico ma anche con tutti i soggetti e anche messaggi con cui i soldati entrano in contatto tra cui appunto anche la propaganda tuttavia diciamo che spinto appunto da queste problematiche che esistono e anche dalle critiche che ne sono state mosse nel tempo ho cercato di variare le fonti e quindi le ho affiancate e integrate con la documentazione del reggio esercito e le sentenze dei tribunali militari perché? perché questi documenti a loro volta danno conferme notizie aggiuntive a cose lette nelle testimonianze o comunque a cose di contesto o a comportamenti che emergono da questi scritti intimi ma al contempo è anche un invito fatto dalla storiografia ad esempio britannica di allargare i paradigmi investigativi cioè di aprirsi ad esempio l'influenza sul morale e sui comportamenti dei soldati di elementi come gli armamenti la tattica le misure dei comandi ma anche aspetti cronologici e temporali e persino climatici che non vanno ignorati a mio parere in questa ricostruzione date queste premesse questa seconda sezione si articola su quattro capitoli che ripercorrono diciamo altrettanti momenti dell'esperienza bellica in primo luogo la mobilitazione la riva al fronte ma anche l'incontro con le popolazioni irredenti che spesso però in realtà sono percepite come espressione del nemico e sono tra i momenti più laceranti e stranianti dell'esperienza dei soldati in cui appunto i soldati spesso costruiscono la propria esperienza esponione sulla guerra ma al contempo la decostruiscano perché abbiamo un incontro praticamente o meglio uno scontro tra le proprie convinzioni personali il proprio vissuto e quell'insieme di relazioni messaggi che loro incontrano al fronte e quindi un momento a mio parere fondamentale per capire poi gli sviluppi successivi si è andati poi a individuare tre momenti negli successivi tre capitoli distinti per capire appunto il comportamento dei soldati la prima di tutto gli atteggiamenti violenti ovvero quelle relazioni che sono alla base stessa del concetto diciamo di guerra comunque che naturalmente associamo con la guerra che appunto sono un rapporto violento con il nemico e si è voluto proprio iniziare con un capitolo che va a delineare un paragolo che va a delineare la quotidianità della violenza sul fronte andando a tracciare come in delle parti in realtà questa violenza fosse tutt'altro che continua ma ci fosse di fatto un tacito accordo con il nemico di diciamo senza comunque un'intensità continua di scontro senza un continuo ricercare confronto si sono poi andate a individuare tre categorie di violenza che sono la violenza impersonale e meccanica che sarebbe quella esercitata attraverso i bombardamenti di artiglieria e gas ad esempio che in particolare i bombardamenti sono preponderanti nella grande guerra è impersonale perché comunque agita a distanza meccanica ovviamente per questo ruolo sovrastante la tecnologia bellica in secondo luogo la violenza nelle grandi offensive in cui sono gli stessi fanti che sono diciamo i principali soggetti indagati a agire la violenza tuttavia è una violenza collettiva spesso agita a distanza dove il nemico comunque rimane un soggetto sullo sfondo quasi intangibile e poi la violenza eretta una forma di violenza rara nella prima guerra mondiale che appunto è nel caso italiano circa il 2-3% delle perdite dovuta alla violenza eretta però ha un impatto psicologico pesantissimo e quindi si è cercato di andare a capire come soldati motivavano la violenza agita e anche come questo influenzava la loro opinione sul nemico in terzo luogo in terzo luogo quello che diciamo sono le forme di cooperazione non violenta con l'avversario che è un argomento in realtà poco indagato riguardo al fronte italiano però è particolarmente importante al di là di ricostruirne le dinamiche collettive e anche analizzare quelle che sono le dinamiche interne alle unità elementali cioè tipo le compagnie al fronte cioè avere il rapporto tra ufficiale inferiore e soldati che per portare a sospendere collettivamente non è una scelta individuale ma collettiva le ostilità e quindi si è cercato di indagare le motivazioni si è andato a individuare quei soldati più propensi a stringere tregue e quelli meno inclini a farlo e ecco è quello anche qui che delle linee che spesso sono in realtà atteggiamenti di comodo che però hanno tra le loro motivazioni quello che comunque spinge o comunque facilita il fatto che il nemico non è proprio visto come tale ma è uno con cui si condivide in realtà stesse condizioni di vita si prova un sentimento di solidarietà che appunto è un tratto caratteristico che hanno notato in particolare in Francia gli storici più afferenti al creed riguardo appunto all'esperienza francese e anche andando ad analizzare comunque una particolare tipo di fraternizzazione che avviene sul fronte italiano e in realtà è stato oggetto di uno studio internazionale di Mark Cornwell che non è stato recepito in Italia però che però è molto interessante che parla appunto di queste fraternizzazioni creata ad hoc e molto comuni sul fronte orientale con la Russia e che gli austriaci provavano a fare anche qui per cercare di sfibrare l'unità del regio esercito soprattutto infatti tra il 17 e il 18 e infine il capitolo è dedicato quando appunto il insieme di comportamenti adottati quando uno dei due attori era reso inoffensivo e si trovava in una situazione di subordinazione all'avversario e diciamo che al di là di affrontare il rapporto con il nemico quando è ferito o quando si è ferito in mano del nemico e il rapporto con i prigionieri si è guardato anche a come i soldati italiani si comportano rispetto al militare nemico al momento della pace quando quel momento di obbligatoria patriottica e anche di gioia il nemico invece è spesso in rotta e si incontra nella diciamo in una situazione opposta ma spesso con molte simili figli questo a grandi linee sono gli argomenti che ho toccato nella tesi e quindi vado a concludere anche per che ho rubato fin troppo tempo e cedo la parola alla professoressa Pavan Grazie Francesco no non hai rubato assolutamente nulla perfettamente nei tempi che ci eravamo dati e quindi io giro immediatamente invece la parola al tuo discussant al professor Simon Levi-Sullam Grazie allora ovviamente premessa fondamentale io non sono specialista di prima guerra mondiale quindi i miei commenti e le mie osservazioni saranno diverse da quelle che avrebbe potuto fare il collega Mondini va anche detto che mi pare che la ricerca di Francesco Cutolo si collochi in un contesto nazionale e internazionale di studi molto più consolidato rispetto a quello ad esempio della precedente ricerca che abbiamo di cui abbiamo ascoltato il discorso e io appunto mi compiaccio per l'articolazione delle fonti dei temi e delle problematiche a cui il dottor Cutolo ci ha introdotto devo dire che ovviamente queste sono anche il frutto di una straordinaria fioritura stereografica che negli ultimi 30 anni ha molto articolato complicato e reso sempre più sofisticata la nostra capacità di interpretare quella esperienza catastrofica e straordinaria che è stata la prima guerra mondiale tant'è che Cutolo stesso fa riferimento su ogni tema all'incirca a diverse scuole stereografiche che si sono confrontate su questi complicati temi ma è chiaro che mi pare che Cutolo ci abbia anche proposto diciamo delle falle e dei punti di osservazione e di penetrazione più originali che lui sta cercando in questo ampio materiale insieme di problematiche che hanno probabilmente a che fare innanzitutto con questo nucleo consistente di fonti che lui ha esaminato di tipo diaristico epistolare che ogni volta come per le fonti più ricche possono rivelare a partire da domande nuove o sensibilità nuove delle risposte in parte nuove ho una serie di osservazioni e devo dire che non mi è del tutto chiaro anche se si è chiarito parzialmente dal riferimento alle cartoline e con il powerpoint se quando Francesco si riferisce all'immagine del nemico si riferisca anche esplicitamente come mi pare a una rappresentazione iconografica del nemico perché ci può essere un'immagine di tipo retorico come nei diari o nella corrispondenza e c'è ovviamente un'immagine propriamente iconografica e chiaramente questo tipo di immagini richiedono degli strumenti e delle analisi molto se non in alcuni casi completamente diverse e questo non era molto chiaro anche devo dire nella sua presentazione ho provato ho trovato utile diciamo il tentativo di uscire dalla nozione di cultura di guerra che è stata ed è ancora in parte una nozione molto fruttuosa nella storia sulla grande guerra sono d'accordo che può essere diciamo un in parte un letto di propuste o può presentare dei limiti soprattutto perché presuppone questa nozione di cultura un sistema di pensiero e un immaginario fortemente e ordinatamente strutturato cosa che non necessariamente è quando si parla di cultura e antropologia si parla di un insieme di simboli significati che hanno una loro struttura mentre non è detto che si debba ricostruire nell'insieme ci possono essere voglio dire anche dei frammenti e soprattutto ci sono dei livelli culturali molto diversi e quindi può essere utile questo utilizzo di un'altra categoria che è quella di discorso dominante d'altra parte mi interessa sapere mi interesserebbe sapere come questo discorso viene come questa categoria viene effettivamente utilizzata perché anch'essa può presentare diciamo degli inconvenienti rispetto alla messa a fuoco della circolazione tra alto e basso per così dire del sistema culturale o degli insiemi culturali o anche della stratificazione sociale perché appunto il discorso dominante potrebbe in alcuni casi offuscare il punto di vista dei subalterni per restare a un linguaggio che è gramsciano ma che è anche quello degli studi subalterni subalterni studies che lo hanno recuperato in tutt'altro contesto e quindi del discorso dominante sì è chiaro che stiamo confrontando da quello che capisco la propaganda con la sua ricezione o non ricezione la sua riarticolazione quindi mi interesserebbe sapere meglio come questa categoria di discorso dominante viene usato e come si faccia fronte alla necessità appunto di non offuscare una moltiplicità di una stratificazione di punti di vista un altro tema interessante è questo più generale del nemico devo dire che anche per i miei interessi che si sono concentrati prevalentemente sulla seconda guerra mondiale anche se non come fronte di guerra ma più sulla questione diciamo degli holocaust studies in generale il problema diciamo dei fascismi credo che sarebbe utile e interessante capire quanto la riflessione che tutto sommato lo stesso Moss propone che è quella della barbarizzazione del nemico possa essere studiata e debba essere studiata anche a partire dalla conclusione dagli sviluppi post prima guerra mondiale di questi processi voglio dire che cosa poi succede del nemico che si costruisce nella prima guerra mondiale in che rapporto dei nemici in che rapporto sta quell'immagine del nemico con il nemico politico della guerra civile europea per citare Traverso Ernest Nolte che si diffonde a livello europeo in tutte le direzioni politiche ma che per molti aspetti nasce anche nelle trincee e quindi quanto gli studi sul nemico politico Mosse del resto che lei cita ci spinge proprio in quella direzione la sua riflessione va in quel senso ma ce ne sono molte altre penso agli studi controversi ma affascinanti di Tevelight sulle male fantasies sull'immaginario anche diciamo erotico e di genere maschile che si riferisce per lo più alla diciamo alla guerra civile post prima guerra mondiale quindi Freikor via dicendo nel contesto tedesco quanto quelle letture di taglio anche psicoanalitico ci possono dire proiettate all'indietro di questo momento formativo dell'immaginario attorno al nemico quindi forse bisogna spingersi anche un po' avanti e conoscere la storiografia e gli studi sulle immagini del nemico tra fascismi e seconda guerra mondiale in Shoah inclusa per capire meglio che cosa avviene nella prima guerra mondiale e d'altra parte può essere utile tornare anche indietro mi è capitato di occuparmi in un breve lavoro vari anni fa del fatto che l'immagine generalmente associata a papini del caldo bagno di sangue nero risulta che di solito viene appunto colta nelle pagine di Lacerbo delle riviste studiate dai snenghi nel mito della grande guerra in realtà risale all'età liberale a De Zerbi agli anni 80 dell'ottocento e quindi una parte del linguaggio della guerra attorno alla guerra si forma già in età liberale e quindi può essere interessante anche questo chiedersi nasce tutto lì o c'è anche un prima vado rapidamente verso la conclusione un punto uno snodo molto interessante per analizzare questa questione che lei pone può essere il quel luogo supremo della grande guerra che è Caporetto perché anche torno a citare Snenghi non tanto per i suoi studi più antichi ma il suo lavoro più recente su Caporetto che studia Caporetto dal punto di vista delle fonti tedesche ci porta a incrociare in quello snodo straordinario che è Caporetto il problema dei punti di vista in modo a volte molto spiazzante per alcuni di questi ufficiali tedeschi è una sorta di viaggio in Italia il guettiano Caporetto che noi viviamo come una una tragedia e quindi c'è addirittura un orientalismo verso gli italiani eccetera eccetera quindi mi chiedevo cosa lei fa di Caporetto se ha un ruolo Caporetto tra i suoi punti di osservazione e poi ci sono le fonti letterarie che io non trascurerai mai ma che del resto voglio dire anche Jay Winter nel suo libro ultimo tra i più recenti War Beyond Words torna sulle fonti letterarie recuperando suoi lavori anche più ma insomma a livello europeo che cosa ci dicono rispetto alla costruzione del nemico Barbus Junger via dicendo sono ambiti che chiaramente sono stati arati da studi che nascono con Fassel con Islenghi arrivano fino a Jay Winter e molti altri ma io credo che le fonti letterarie siano sempre uno straordinario punto di osservazione che epistemologicamente ci dice anche molto anche del mondo illetterato perché io non mi staccherò di dire in modo anche se un po' convenzionale è che la storia di intellettuali serve perché gli intellettuali diciamo hanno maggiore consapevolezza di tutta una serie di processi cioè sono un punto di osservazione di cose che riguardano in realtà un mondo molto più articolato e complesso senza ovviamente voler schiacciare tutti i punti di vista su quello dei letterati e degli intellettuali però sono chiaramente un varco testuale e anche direi fenomenologico per tutto un insieme di processi mi fermo qui grazie e lascerei immediatamente quindi la parola a Francesco per poi aprirla ad altre eventuali domande prego Francesco allora no ringrazio per le utilissime osservazioni e spunti voglio partire proprio dall'ultima questione ora nella presentazione mi è sfuggito però in realtà io ho cercato di usare questa categorizzazione tra ufficiali e uomini della truppa quindi in realtà le fonti letterarie anche io sono perfettamente d'accordo cioè non si possono anche se sono state battute e ribattute non si possono escludere anche perché in effetti spesso ci danno spunti sui comportamenti altrettanto interessanti tra l'altro alcune di queste memorie comunque a mio parere merita anche la pena di rileggerle alla luce anche di quello che si legge negli scritti popolari perché in effetti spesso insomma si può trovare anche dei interessanti riscontri a loro volta su certe cose che osservano e poi soprattutto le ho considerate perché a mio parere quando si parla di dittatura e la testimonianza è una questione che nel caso delle diciamo della offuscamento della violenza e dell'odio per il nemico si nota soprattutto nelle appunto nella letteratura degli ufficiali quella dei soldati della truppa appunto è stratificata magari cinque pagine prima sono lì che insomma scaricano parole d'odio contro l'avversario però poi magari le pagine dopo ci stanno facendo una fraternizzazione e quindi è anche utile avere il quadro di tutti e due per capire un po' questo confronto su questa discussione Caporetto in realtà io l'ho considerato un tornante importante perché è lì che si vede l'emergere maggiore comunque nelle testimonianze di parole d'odio verso il nemico spesso appunto sono soprattutto espressioni verbali a quello che ho la percezione io non hanno proprio una traduzione nel voglia di cercare lo scontro l'obiettivo rimane sempre quello di salvare la pelle fondamentalmente e magari sfuggire alla guerra possibilmente e poi Caporetto è interessante perché quello che ho avanzato con molta cautela è che in realtà è una zona dove di fatto esiste una trascita intesa con il nemico cioè probabilmente è una zona dove c'era una relazione stabilita tra avversari che potrebbe forse aver facilitato comunque l'attività offensiva degli austro-tedeschi è un'ipotesi che comunque forse va approfondita in secondo luogo riguarda le immagini del nemico ecco diciamo che in effetti un'altra cosa che non ho potuto diciamo esprimere bene è che ho anche guardato aspetti come il come appunto la barbarizzazione del nemico come appunto ne ha parlato Mosse cercando di guardare soprattutto l'ante più che il dopo perché nella parte in questi capitoli introduttivi sulle rappresentazioni del nemico ho cercato anche di guardare pur brevemente all'epoca risorgimentale vedendo come in realtà già allora la demonizzazione in maniera anche piuttosto insistente attraverso le atrocità insistendo sulle atrocità era piuttosto diffusa semmai erano nettamente diversi mezzi a disposizione quello che si vede nella Grande Guerra soprattutto è questa rapidissima evoluzione dei mezzi in realtà io mi sono dedicato soprattutto appunto alle immagini iconografiche perché credo che siano quelle più alla portata dei scetti popolari però non ho escluso comunque elementi come i discorsi alle truppe ma anche a certi articoli di giornale in giornali ad ampia tiratura ma anche lì ho fatto delle seduzioni specifiche come insomma giornali più comuni e non ho comunque escluso anche un dibattito sull'inter su diciamo sulla struttura diciamo la macro struttura ovvero i come possono essere appunto gli intellettuali o proprio la politica le grandi famiglie politiche e spesso quindi andando anche analizzare proprio giornali che probabilmente alle città popolari non arrivavano ma non potevo escluderli che comunque tra le testimonianze mobilitate c'erano anche scriventi non popolari ma come appunto ufficiali colti o comunque volontari nazionalisti e quant'altro sì beh in effetti il discorso il tema del discorso dominante è diciamo che è una è una questione un po' complicata che io stesso ho delle diciamo prima di diciamo da prima preferivo adattarmi su cultura di guerra poi anche dal confrontarmi con il professor Rousseau con cui faccio riferimento per questa tesi ho diciamo più diciamo preferito questa definizione anche se effettivamente si rischia un po' rischia un po' di dare l'idea che ci sia solo un piano e il sotto sia totalmente escluso da questo dibattito quando in realtà delle diciamo in qualche forma gli arriva seppur rielaborato e comunque loro stessi lo condividono e lo rielaborano lo fanno proprio in molti cali cioè non è assolutamente nell'analisi che ho fatto emerge che comunque i soldati alcune di queste rappresentazioni le facevano proprie pur adattandole pur però quello che ho cercato di far vedere è che l'adozione di queste rappresentazioni negative spesso non corrispondeva a un comportamento tale come inviti a massacrare il nemico che in alcuni casi estremi si trovano nella propaganda non vi è spesso nelle testimonianze o comunque dall'analisi dei comportamenti che si ha anche da altre fonti sono casi rari succedono ma sono comunque più sporadici come in particolare si vede nel rapporto con il nemico prigioniero spero di aver detto più o meno tutto di quelle che era stato sollevato comunque nel caso se mi sono dimenticato qualcosa resto a disposizione grazie in attesa che qualcuno sulla chat voglia fare ulteriori domande curiosità osservazioni ne faccio sì ne faccio una io ho visto che c'è già subito un intervento molto banale una curiosità che è già venuta fuori prima ascoltando il tuo collega quantitativa a me interessa sempre cercare anche di capire su quanto materiale hai messo le mani finora cioè visto che hai accennato anche tu stesso a un problema di sistematicità di rappresentatività alla fine di questi materiali per cercare poi di trarne qualche interpretazione fondata in qualche modo quindi tu mettendo tutto insieme se poi addirittura riesci a distinguerlo per tipo di fonti quante sono quelle con cui hai lavorato e poi lascio la parola a Donato Verrastro che ha chiesto di intervenire prego intervengo io? sì prego certo buon pomeriggio a tutti trovo questo lavoro di ricerca davvero molto interessante perché si inserisce appunto negli interstizi di filoni di ricerca che come ricordava il collega Levi Sula prima ha vissuto negli ultimi anni insomma una una ripresa significativa anche a ridosso del centenario della grande guerra io volevo solo brevemente aggiungere e mi scuso se dovessi ripetere cose già dette da altri perché c'è stato un momento in cui ho avuto problemi con la linea e quindi ho avuto qualche difficoltà a seguire tutto per bene volevo solo suggerire non so se è già parte della sua della sua ricerca e se quindi può essere utile ad ampliare in qualche modo anche la prospettiva di indagine sempre secondo quanto consigliato da Levi Sula prima aggiungere tutta la comunicazione che viene dall'alto sul a partire dal tema del finanziamento della guerra e quindi mi riferisco ai prestiti nazionali alle campagne per il prestito nazionale alla raccolta fondi alle lotterie che alimentarono tutta una comunicazione diciamo istituzionale di stato ufficiale e quanto questo condizionò poi anche un'idea di nemico la demonizzazione del nemico e quindi quanto questa produzione dal basso sia stata condizionata appunto dalla comunicazione ufficiale dalla comunicazione di stato e poi volevo anche aggiungere un tema all'atere che è quello dei prigionieri non so se è parte anche della sua ricerca perché credo che lì si aggiunga un problema si aggiunga problema a problema nel senso che il tema dei prigionieri è un tema molto controverso durante la guerra nel senso che è un tema in gran parte taciuto il prigioniero è il soldato che si è dato all'emico senza combattere il vigliacco c'è un pregiudizio che viene alimentato e sostenuto in qualche modo anche dal silenzio che diciamo anche i documenti registrano sui prigionieri perché questo condiziona insomma la tenuta del fronte interno e il sostegno alla guerra e da questo punto di vista quindi quanto il nemico prigioniero entri poi o meglio quale sia l'immagine del nemico prigioniero ma anche del nemico diciamo del soldato italiano che diventa in qualche modo un nemico perché si è dato è caduto diciamo nelle mani del fronte del fronte avversario e quindi getta un'ombra sulla sull'efficacia dell'azione militare dell'esercito grazie Francesco aggiungiamo anche un'ulteriore domanda che arriva da Mariangela Palmieri prego Mariangela eccomi allora sarò rapidissima io insomma poiché questa tesi è ovviamente orientata anche a un discorso come dire sugli immaginari e ovviamente anche iconografico io non sottovaluterei i film di propaganda che sono stati realizzati a partire dal 1916 dal reggio esercito adesso io mi rendo conto che alle volte allargare eccessivamente il ventaglio delle fonti può essere dispersivo e rischioso però il cinema a partire da questo momento storico insomma svolge un ruolo importantissimo anche nella proprio strutturazione di quelli che sono gli immaginari e quindi alla luce anche insomma di questo ovviamente la fonte cinematografica può essere di grande interesse tutti gli eserciti durante la prima guerra mondiale un po' in ritardo l'Italia ha ancora più ritardo rispetto agli altri si dotano di una sezione cinematografica questi film sono stati tra l'altro anche studiati da alcuni però studiosi di cinema mi riferisco a Sara presenti compagnoni e mi sembra che abbia scritto qualcosa anche Alessandro Faccioli sono ovviamente l'espressione di un punto di vista molto forte che è quello appunto dei piani alti del reggio esercito c'è più insomma una guerra mascherata taciuta non detta che quello che realmente si vede si vede poco c'è la guerra bianca ci sono scenari quasi turistici c'è il rancio ci sono le retrovie ci sono immagini ovviamente rassicuranti però come sempre accade nel cinema di propaganda e non dette alle volte sono più ovviamente interessanti di quanto è detto quindi capire perché non venga detto può essere altrettanto interessante io non li escluderei tra l'altro non sono moltissimi tra l'altro molti di questi film sono anche reperibili in rete perché c'è stato un progetto molto ambizioso che è stato fatto dallo European Film Gateway si può trovare in rete e si possono vedere questi film non soltanto degli archivi italiani ma addirittura di archivi audiovisivi di altri paesi europei quindi eventualmente insomma si potrebbe anche fare un confronto con gli altri paesi sarebbe troppo però ecco io la butto lì cioè secondo me in una tesi in cui poiché il cinema svolge un ruolo importante a partire da questo momento proprio nella definizione degli immaginari e poiché ci sono questi film sono stati trovati studiati io le prenderei in considerazione possono venire fuori insomma degli spunti interessanti e quindi mi fermo qui Grazie Francesco quindi torniamo a te Allora diciamo inizio da lei professoressa ecco allora sul piano quantitativo era proprio questo il problema cioè le testimonianze da sole non erano appunto sufficienti quindi al di là di quel numero di testimonianze che sono più di 150 poi ogni tanto tendo ad aggiungercela di nuove perché le magari mi capitano sotto mano alcune le ho anche raccolte non soltanto in quegli archivi ma anche da piccoli museini che ci sono a giro e allora c'è un'altra problematica al di là delle fonti a propaganda che grazie al centenario io ho avuto la fortuna che comunque erano quasi tutti online e quindi ho potuto lavorarci senza problemi anche quando ho dovuto rifare degli affondi di sicurezza nel corso dell'anno trascorso diverso è la questione per quelle fonti dell'esercito e dei tribunali militari per avere diciamo conferme a fenomeni che avevo ipotizzato e appunto osservate a cui volevo trovare conferme ulteriori diciamo che c'è un problema di consultazione con quando ci sono andato io all'ufficio storico dell'esercito c'è quel limite che si può accedervi per pochi giorni quindi ho dovuto fare fondamentalmente una selezione andando a consultare ho deciso di fare una ricerca per armate cioè praticamente ho deciso facciamo controlliamo il materiale sulla propaganda sul morale su le direttive disciplinari della prima armata e della seconda in maniera quasi sistematica più alcuni affondi su altre buste che sapevo ci potevo trovare qualcosa di interessante e in effetti in realtà proprio sistematica la ricerca non è venuta perché quando uno apre quelle buste in realtà viene fuori informazioni di altre armate di altre zone geografiche quindi in realtà quasi meglio perché poi alla fine ho raccolto tante informazioni che permettano di dare in che senso una base quantitativa cioè ad esempio se uno legge questi documenti appare che questi atteggiamenti di familiarità con il nemico sono in realtà molto diffusi e viceversa anche nelle testimonianze però nelle testimonianze si potrebbe obiettare che è colpa di un'ideologia pacifista che i memorialisti hanno cercato di sottolineare questi comportamenti tuttavia diciamo che a suo modo quei documenti il reggio esercito pur tenendo conto che il reggio esercito tendeva a vedere il peccato anche dove non c'era diciamo sono comunque a suo modo dei riferimenti utili e poi le sentenze dei tribunali invece per assurdo sono utili perché rivelano come in realtà fosse difficile sanzionare determinati comportamenti in realtà la ricerca sui tribunali anche questa è molto complicata ho consultato i tribunali di guerra di quattro colpi d'armata in realtà un lavoro enorme che ha dato pochissimi risultati perché in realtà sono quasi tutte sentenze per diserzione in larga parte automutilazione e quindi diciamo le cose che interessano a me non le ho cercate quindi non le ho trovate quindi a livello quantitativo c'era anche questo diciamo questo problema però ecco alla fine sono riuscito comunque avere tante informazioni da tante parti del fronte che ho cercato di collocarle nell'ambiente in cui i soldati operavano cioè detto proprio ho cercato di fare una contestualizzazione molto attenta proprio all'orografia del fronte italiano perché certe cose non si capiscono magari perché cioè certi fenomeni come la sospensione dell'austerità hanno un particolare senso magari in delle zone carsiche dove le trince erano attaccate e c'era modo di alzarsi in piedi e quindi si fa una tacita intesa col nemico almeno si può magari consumare il pasto in pace ecco diciamo ho cercato appunto di fare con attenzione questo lavoro e queste fonti sono state molto utili anche poi per vedere come le sanzionavano i comandi allora diciamo che per rispondere anche alla seconda domanda del professor Berastro di fatto ho toccato la materiale relativo alla alle campagne per il prestito perché appunto avevano una grande diffusione e comunque diciamo che nella ricerca iconografica delle immagini veicolate erano tra quelle che comunque avevano più diffusione quindi ho cercato di includerle riguardo invece al pregiudizio sui prigionieri che è un tema che appunto è l'ultimo capitolo che mi resta da scrivere diciamo che c'è il pregiudizio in entrambi i casi nel primo caso verso i prigionieri austrungadici perché l'accusa generalizzata che si vede in Italia è quella che sono trattati troppo bene una delle immagini più comuni che ho trovato è questa del soldato austrungarico sulla poltrona con l'attacco al fatto che sono trattati troppo bene e accanto la foto dei soldati italiani scheletrici a Mauthausen o nei vari campi austrungarici sul soldato italiano prigioniero è un aspetto duplice da un lato c'è l'accusa costante che questi sono disertori e questo si vede bene nelle direttive in particolare tra il 1915 e il 1916 quindi nelle direttive sulla preparazione morale del comando supremo roba non tanto iconografica quando più che altro è trasmessa attraverso i discorsi alle frutte però è importante notare che tra le prime immagini che arrivano ai soldati per volontà dei comandi c'è quella dei prigionieri italiani appunto in Austria però il tema qui non è tanto il fatto che il nemico è cattivo ma il fatto che loro sono dei sono trattati come dei traditori e quindi come sempre ecco cosa succede a consegnarsi al nemico si vede una evoluzione nell'ultimo anno di guerra nell'ultimo anno di guerra è più incentrato sul fatto che il diciamo il nemico viene il nemico appunto è demoniaco e lascia i soldati italiani morire di fame questo già c'è un'evoluzione ulteriore nell'ultimo anno di guerra che io credo sia relativa al fatto che comunque la disciplina sotto Diaz cambia resta comunque coercitiva resta comunque molto dura nei confronti dei soldati ma si cerca di coinvolgerli più emotivamente e si evita anche di criminalizzarle meno certi di criminalizzarle guardare meno in negativo il comportamento dei militari quindi un'evoluzione c'è e che si riflette anche sulla propaganda piuttosto si nota che invece i comandi italiani cercavano di usare il nemico come prigioniero come per mostrarsi in positivo e tendevano soprattutto a utilizzarlo come arma anche qui per tra i loro truppi per mostrare la superiorità italiana c'è sempre questa insistenza nelle direttive dei comandi sulla superiorità morale degli italiani in particolare tra il 15 e il 17 e appunto viene utilizzata come a dire noi trattiamo con umanità questi soldati e si vede soprattutto nelle foto del reparto cinematografico dell'esercito che sono sia interessanti perché a volte intercettano comportamenti che potrebbero quasi sembrare spontanei anche se nel reparto cinematografico dell'esercito resta sempre il dubbio che sia realtà propaganda e quasi sempre lo è però al contempo è un'alma appunto per diciamo rimarcare questo aspetto venendo all'ultima domanda ecco in realtà nel capitolo iniziale che avevo scritto c'era un paragrafo dedicato rispettivamente al film e uno alla musica e l'avevo anche in realtà l'avrei anche abbozzati però era diventato una sorta di era diventato eccessivo questo primo capitolo perché appunto volendo andare a vedere il comportamento delle famiglie politiche degli enti di propaganda italiani esteri e diventava diciamo che ho dovuto purtroppo toglierlo non ho potuto però diciamo il materiale lì infatti è mia intenzione riprenderlo io però più che quelli del comando supremo avevo analizzato i film prodotti in Italia da varie case cinematografiche naturalmente sempre sovvenzionate dallo Stato e mi ero rifatto a le schede che erano state elaborate su bianco e nero tra 1991 e 1994 che sono tra l'altro delle fonti di studio per la cinematografia sono me ottime e qui era andata a intercettare le immagini del nemico nella cinematografia tra il 1915 e il 16 perché già nel 17 il cinema ha un crollo verticale di diffusione la gente non ne può più di fin sulla guerra ed è interessante vedere come in realtà al cinema vanno ad affrontare temi forse meriterebbe rimetterlo nella presa a questo punto temi che poi in realtà nella grande propaganda cartacea iconografica non se ne parla tipo ad esempio un tema che è stato calcato dal cinema con successo è quello delle violenze in Serbia cioè le violenze austro-ungariche in Serbia vengono approfondite al di là di quelle diciamo tra virgolette classiche del Belgio che sono quelle più comuni in Italia diciamo c'è anche questo aspetto sul Belgio interessante avevo poi fatto una cosa altrettanto sulla musica perché era anche quello interessante perché in realtà considerando che il canto era una delle attività principali dei soldati al fronte era un veicolo importante di diffusione dovrò forse fare una riflessione su come recuperare questa ricerca in realtà avevo già fatto fino a buon punto grazie Francesco mi sembra che sulla chat non ci siano altre domande ma se direi di no quindi direi che siamo arrivati al termine di questa nostra prima di questo nostro primo appuntamento il prossimo è lunedì 18 gennaio con altri tre dottorandi non so se c'è qualcosa da dire Mariangela in termini organizzativi no il link cui collegarsi sarà il medesimo l'orario sarà il medesimo la struttura lo stesso quindi io ringrazio innanzitutto Francesco Giorgio e Dario e i discuss anche così generosamente si sono prestati per dare le loro osservazioni fornire motivi di riflessione penso che non siano mancati per nessuno di voi quindi questo è lo scopo dell'incontro e dunque direi perfettamente riuscito ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato vedo comunque ancora 27 partecipanti quindi direi che nonostante le difficoltà dell'online siamo riusciti a tenere un gruppo tutto sommato numeroso certo non come quello che ci sarebbe stato se fossimo state in presenza ma insomma andiamo avanti così che in qualche modo riusciremo lo stesso a fare il nostro lavoro grazie a tutti e ci vediamo quindi lunedì prossimo con la seconda puntata di Storie in Corso grazie a tutti grazie a tutti